Benvenuto e benvenuti a questo evento di oggi. Io sono Alessandra Cordiano, sono la referente di Runi Pace per l'Università di Verona e porto i saluti dell'Università di Verona e del suo magnifico rettore. L'Università di Verona ha organizzato oggi, insieme all'Università di Pisa e all'Università Statale di Milano, questo evento che per noi è il secondo evento nell'ambito della rete Università per la Pace e lascerò poi a brevissimo la parola alla collega Enzo Pellecchia per presentare la rete Università per la Pace, dei suoi valori, dei suoi obiettivi, delle iniziative già realizzate di quelle in agenda. Permettetemi due parole di apertura, questo evento di oggi si colloca idealmente nel calendario della giornata internazionale per i diritti delle donne e noi lo celebriamo così con questo evento straordinario. Per questo ringrazio Adriana Cavarero, Olivia Guaraldo e Lorenzo Bernini per aver accolto questa nostra proposta e le colleghe Enza Pellecchia e Marilisa D'Amico che sta per raggiungerci e non solo per la loro partecipazione di oggi ma anche per aver fortemente voluto e sollecitato questo evento. Prima di lasciare la parola a loro, alcune note tecniche, questo evento di oggi si realizza nella forma del webinar quindi i microfoni sono aperti solo per le relatrici e il relatore, le eventuali domande quindi le dovrete porre nella chat, io le raccoglierò e alla fine di un giro di discussione le porrò alle nostre ospiti e al nostro ospite. La registrazione di questo evento sarà fruibile da domani sui canali Univro YouTube quindi non è in streaming sin da ora ma da domani sarà possibile rivedere l'evento e per questo evento non c'è accreditamento per gli studenti abbiamo scelto così però naturalmente sono a disposizione per lasciarvi un attestato di partecipazione e per ogni altra domanda scrivete pure a me alessandra.cordianounivro.it e grazie ancora per essere così numerosi, numerose, benvenuta anche a Marelisa, buongiorno. Ah, ho avuto un problema con il computer, con i due computer, adesso sono connessa col telefono, ma siamo perfetti, siamo perfetti. Benvenuta anche a te, grazie a tutti, grazie ancora alle relatrici e al relatore e buona giornata e buon lavoro. Bene, buonasera a tutte e a tutti anche da parte mia, grazie ad Alessandra per aver organizzato come Università di Verona questo incontro, averne curato la parte tecnica ma anche una non indifferente parte organizzativa più nel complesso. Già qualcosa è stato detto da Alessandra circa il senso e la genesi di questa iniziativa. Il 10 dicembre del 2020 nel presentare ufficialmente la nascita della rete delle università italiane per la pace concludevo le mie parole di presentazione ricordando le tre guinee di Virginia Woolf e ricordando la necessità di uno sguardo femminile, di uno sguardo diverso anche rispetto ai temi del conflitto, della violenza, della costruzione della pace. Da lì è nato all'interno del gruppo dei referenti della rete delle università italiane per la pace un piccolo gruppo al momento costituito da Alessandra, da Marilisa e da me che cercherà di promuovere iniziative proprio sul tema donne, pace e sicurezza. Il nostro desiderio è che questo piccolo gruppo si ampli, è un gruppo aperto alle collaborazioni, vorremmo farne un laboratorio di riflessione e vorremmo confrontarci, sperimentare, cercare appunto nuove parole e realizzare un po' il mandato di Virginia Woolf. La rete delle università italiane per la pace è una rete promossa in ambito Crui, promossa dal rettore dell'università di Pisa, dal rettore dell'università di Brescia inizialmente, ma alla quale hanno via via aderito tantissimi Atenei in tutta Italia, al momento siamo più di 50 e l'obiettivo è proprio quello di far emergere la ricchezza che già c'è nelle università italiane in termini di ricerca, in termini di didattica, in termini di terza missione sul tema della costruzione della pace e promuovere ulteriormente una missione delle università proprio nella costruzione della pace. Io sono molto curiosa di quello che ascolterò oggi, sono molto desiderosa di apprendere, di ascoltare e le due relatrici e il relatore che ci accompagneranno nel pomeriggio di oggi sono indubbiamente esperti dei temi di cui ci parleranno. Permettetemi di dire che per me è una grande emozione soprattutto avere come ospite e ascoltare direttamente Adriana Cavarero, non soltanto perché Adriana Cavarero è personalità di spicco del mondo della filosofia e del mondo della cultura ma perché in qualche modo nella mia vita è entrata attraverso una via che non è la via accademica ma la via di un contesto diverso di riflessione extra accademica però sul pensiero femminile della differenza. È entrata nella mia vita attraverso la scuola Labodif che è una scuola, un laboratorio sul pensiero femminile della differenza ideato e portato avanti da Gianna Mazzini e da Giovanna Galletti ed è proprio grazie a loro che ho imparato prima di tutto a conoscere nonostante Platone e a farmi accompagnare nella vita quotidiana da quelle quattro magnifiche figure riscritte attraverso la tecnica del furto alla filosofia tradizionale come Adriana Cavarero è espertissima a fare e ancor più mi ha colpito apprendere che anni fa nonostante Platone è stato oggetto di studio e di lettura in una fabbrica e insieme a delle operaie iniziativa che fu fortemente voluta dall'imprenditrice Margherita Dogliani e insieme a Gianna Mazzini e a Giovanna Galletti fecero appunto questo studio e questa riflessione su nonostante Platone e ad un certo punto Adriana Cavarero fece un bellissimo regalo, si materializzò in occasione di quel laboratorio, di quella riflessione e dialogò con le operaie su questi temi. Questo ha testimonianza del fatto che ci può essere un modo di grande vicinanza tra i temi della filosofia, i temi della quotidianità ed è per questo che sono davvero contenta di poter ascoltare oggi Adriana Cavarero e naturalmente anche Olivia Guaraldo e Lorenzo Bernini. Il pubblico che abbiamo è un pubblico vasto, un pubblico eterogeneo e auguro a tutte e a tutti buon lavoro. prego Marilisa, Marilisa dov'è? Non c'è più. No ci sono, ci sono. Ci sono e per fortuna non abbiamo solamente i computer ma anche i telefoni quindi sono qui connessa con il telefono, vi ringrazio molto, scusatemi davvero di non essere riuscita di aver avuto questo problema appunto tecnico per cui non sono riuscita neanche poi a insomma a collegarmi prima e a condividere con voi un momento di riflessione ma qualche cosa eh diciamo vi hanno eh diciamo mi avevano anche già detto su come coordinare. In realtà la professoressa intanto ringrazio moltissimo Alessandra Cordiano che ha organizzato l'Università di Verona che è stata la promotrice poi di questa iniziativa in cui anche i nostri atenei si sono eh uniti. Eh ha già detto la professoressa Pellecchia che ringrazio moltissimo eh bravissima eccezionale presidente di questa rete per per la pace eh che sta veramente creando comunque una sinergia anche una potenzialità nuova e anche tutto sommato in un ambiente accademico che eh non è come lo si dipinge non è così ingessato non è così se vogliamo anche conservatore ma anzi e e quindi sta creando proprio questa rete anche di pensiero interdisciplinare molto bella eh che ci sta unendo molto eh ha già detto lei eh del senso non solo della rete ma anche di questo gruppettino che nasce che questa è la prima iniziativa quindi sono anche particolarmente appunto lieta di essere qui eh un un gruppetto che nasce appunto eh già su sua iniziativa eh in realtà ci siamo però adesso siamo in tre ma vogliamo appunto abbiamo anche già tante persone che vorrebbero vorrebbero aderire eh sul tema proprio donne pace e sicurezza e quale ehm se vogliamo battesimo migliore eh di eh della discussione del pensiero e diciamo di questo volume eh in cui si parla dell'etica femminista della non violenza eh che io ehm e con una ehm filosofa famosa un punto di riferimento per tante io non la conosco personalmente forse ci sarebbero incrociate in qualche convegno ma sicuramente la conosco attraverso i suoi scritti e devo dire che da costituzionalista mi sento sempre molto inadeguata quando faccio discussioni con i filosofi politici e soprattutto con le filosofi politiche perché perché e poi magari ve lo dirò dopo lascio prima parlare voi eh perché questo pensiero femminista della differenza e questa diciamo è l'impostazione appunto del femminismo della differenza è eh un pensiero che stimola molto ehm la costituzionalista eh che però si muove ancora molto in un mondo appunto costruito di un diritto costruito da uomini con una neutralità sappiamo solo apparenza e dove anche il tema della parità non è ancora sentito come tema profondo di diritto costituzionale che riguarda la nostra democrazia. Io ho scritto di recente un volume che si intitola una parità ambigua costituzione diritti delle donne e appunto facendo partendo dall'antica Grecia fino a riflessioni sull'intelligenza artificiale ci si rende proprio conto di un filo rosso eh che occorre davvero modificare scardinare destrutturare quindi quale migliore occasione per ascoltare eh non solo Adriana Cavarino ma poi i professori e i professori che discuteranno con lei. Mi sembra che nella 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 scaletta che mi avete mandato eh la prima relatrice sarà la non la professoressa Cavarino ma la professoressa Olivia Guaraldo che ringrazio che è professoressa associata di filosofia politica perso l'università di Verona delegata del rettore per il public engagement studiosa del pensiero Diana Arendt e poi tantissime altre cose che eh che ovviamente eh sapete lascio immediatamente a lei la parola e spero di avere ehm interpretato correttamente la scaletta quindi prima Olivia Guaraldo poi Adriana Cavarero e da ultimo Lorenzo Bernini che ringraziamo anche per essere poi l'unico uomo almeno fra i relatori oggi quindi anche per questo per cui prego Olivia a te la parola. Grazie ho avuto un attimo di panico grazie Marilisa grazie Enza ho avuto un attimo di panico perché mi sono al mio computer si è disconnesso un minuto fa speriamo che vada tutto bene eh grazie Alessandra per questo invito ehm mi fa molto piacere che l'università di Verona sia eh all'interno di questa rete delle università per la pace è una cosa di cui abbiamo parlato a lungo perché ehm Alessandra insieme a me è nella delega del rettore al public engagement quindi riusciamo cerchiamo sempre in qualche modo di indirizzare attività del public engagement dell'università in direzioni eh che hanno che fare appunto con le questioni di genere con le questioni ambientali con le questioni della pace quindi sono felice di questa iniziativa e ti ringrazio anche per tutto l'impegno organizzativo e ringrazio Enza e Marilisa per accoglierci Marilisa dice che è in imbarazzo da costituzionalista a parlare con le filosofi io invece sono in imbarazzo con le costituzionaliste molto spesso o meglio filosofi della politica rispetto alle giuriste e giuristi con cui abbiamo comunque un dialogo che va avanti da tempo ma è sempre c'è sempre un po' ehm così la non tanto la paura ma insomma un po' la reverenza in qualche modo rispetto al sapere giuridico e io oggi giusto per non portare via troppo tempo anche ad Adriana la voce di Adriana eh su queste tematiche eh vorrei solamente fare una piccola narrazione ehm bio bibliografica di eh di questo gruppo di ricerca che a Verona a a partire dal lavoro di Adriana ha interrogato il rapporto fra la politica e la violenza già da molto tempo è un gruppo di ricerca che noi così un po' in maniera un po' narcisistica a volte chiamiamo la Verona School così un po' veccheggiando la scuola di Francoforte naturalmente con qualche appunto punta di narcisismo e dicevo appunto la questo gruppo di ricerca lo studio intorno alla politica nasce eh come gruppo di ricerca attorno alla figura di Adriana Cavarero naturalmente ehm e a partire da Adriana a partire anche da quel testo che è stato citato da Enza nonostante Platone fa dialogare il pensiero della differenza sessuale con il pensiero di Anna Arendt sostanzialmente ecco questi sono i due grandi cardini attorno ai quali la nostra ricerca si è è nata e si è sviluppata eh è un è stato è sempre stato fin dall'inizio un tipo di ricerca se così posso dire che ha cercato di riflettere criticamente sulla tradizione della filosofia politica ehm mettere attraverso la messa in discussione di alcuni termini che la filosofia politica dava ed ha eh sfortunatamente ancora per passo dati quali quello di individuo quali quello di stato e quali quello di potere inteso appunto nella sua forma di ehm eh strumento dell'ordine strumento eh della mh appunto dell'autorità politica dell'autorità statale quindi un potere sempre comunque legato alla dimensione della coercizione della forza ecco la messa in discussione di questi di alcuni eh assunti come quelli che ho elencato fa parte proprio del lavoro di ricerca eh iniziato eh iniziato e costantemente portato avanti da Adriana e eh da me anche da Lorenzo ma anche da Ilaria Possenti da altre persone che lavorano appunto si occupano di filosofia politica all'Università di Verona e ehm e quindi mh la cosa che io penso sia davvero eh innovativa di questo di questo approccio di ricerca eh è appunto la ehm la volontà di dire la politica altrimenti cioè la politica non è eh solo eh questione di ordine questione di rappresentanza eh la politica non è solo questione di appunto gestione della forza o organizzazione ehm del conflitto ma eh la politica ehm come dice anche Anna Arendt è eh può essere declinata in modo differente eh la politica dice Arendt si ehm si distingue dalla violenza si radica nella capacità umana di iniziare qualcosa di nuovo si radica nel fatto che gli esseri umani nascono prima di morire quindi si radica in una dimensione generativa di eh eh che lei chiama natalità e ulteriormente la politica eh ha a che fare con la relazione tra gli esseri umani politica dice Arendt non è né eh dentro ogni essere umano come se esso fosse naturalmente politico eh politica è tra gli esseri umani politica è dimensione Arendt la chiama di in between o infra ehm quindi cercare di pensare la politica come dimensione della relazione significa mettere in discussione tanti assunti della filosofia politica moderna ehm o meglio declinarli diversamente ehm declinarli in modo per cui non sia la violenza o il comando l'unica relazione possibile tra gli esseri umani eh questo appunto è eh facilitato o rafforzato o come dicevo dal felice incontro che ehm che Adriana sostanzialmente fa accadere tra Anna Arendt tra il pensiero di Anna Arendt e il pensiero della differenza ehm e questo felice incontro felice nel senso di fertile di produttivo ehm eh caratterizza un pensare un teorizzare che è che è naturalmente orientato a comprendere il presente per cui quello che diceva Enza prima lo trovo molto significativo eh questa capacità del pensiero di Adriana di parlare alle persone di parlare anche non ai filosofi o alle filosofi di professione eh quindi appunto questa capacità di parlare a partire dalle condizioni eh del presente della realtà dell'esperienza eh però eh questa caratteristica del suo pensare eh è tale a mio avviso anche perché non ha solo un intento critico ma ha anche un intento creativo e propositivo. Questa secondo me è la grande forza ehm del pensiero di Adriana e anche di quello che in qualche modo lei si trasmette ha trasmesso a noi come scuola ma anche alle numerose studiose e studiosi che a livello eh internazionale mh lavorano con i suoi testi e qui arriviamo appunto al testo eh in questione al testo che oggi eh presentiamo ma mh non discuteremo tutto il testo perché è una raccolta di saggi tra loro anche molto diversi però ehm quello che dicevo prima sulla capacità del pensiero di Adriana di parlare a pubblici diversi di attrarre a sé appunto studiosi e studiosi di diverse discipline eh è legato proprio a questa a questo pensiero che si interroga sempre sul presente eh e che eh si rapporta al presente eh anche eh come dicevo con carattere eh diciamo di un immaginario eh positivo e propositivo. Questo libro dicevo questo Towards the Feminist Ethics of Nonviolence è in un libro che nasce da un convegno organizzato all'Università di Brighton eh sul pensiero di Adriana Cavarero e nella fattispecie soprattutto sull'uscita in inglese del suo ormai penultimo libro che è mh inclinazioni critica della rettitudine e mh e fu un convegno di tre giorni con più di cinquanta persone eh che tra l'altro erano già una selezione di altri di numerosi paper che si erano che erano stati presentati per questo per questo convegno un convegno di tre giorni sul lavoro di Adriana a cui hanno partecipato anche due figure molto importanti del dibattito filosofico politico e femminista eh statunitense e internazionale che sono Judith Butler e Bonnie Onig che ehm erano presenti sono rimaste per i tre giorni hanno appunto engaged come si dice in inglese con il lavoro di Adriana in maniera davvero molto ehm molto seria e molto approfondita ehm quindi questo volume sostanzialmente raccoglie alcuni dei contributi che ehm furono ehm portati a questo convegno eh tra cui quello di Lorenzo Bernini e il mio e di molti altri oltre a Judith Butler e Bonnie Onig anche di una nostra collega italiana molto in gamba Simona Forti e e poi di altri di altri autori di soprattutto britannici Christine Buttersby, Mark Devaney, Timothy Usar e Claire Woodford che sono poi i curatori e ecco è stato è stato un modo per naturalmente sia per celebrare anche i 70 anni di Adriana in quell'occasione ma anche di fare il punto sul suo lavoro sulle molteplici linee di ricerca del suo lavoro ehm ma soprattutto su quella riflessione che inizia ehm Adriana a partire da orrorismo che è mi pare del 2007 ehm cioè un libro sulla natura della violenza nell'epoca eh della guerra globale che caratteristiche ha la violenza nell'epoca della guerra globale ehm ha una natura orrorista dice Adriana cioè una natura che è proprio priva di qualsiasi efficacia efficienza strumentalità rispetto a un ordine politico è una violenza che si ehm concentra soprattutto sulla dimensione ehm della nudità inerme di ogni essere umano ecco quindi nelle trasformazioni della violenza contemporanea a partire dal post 11 settembre il pensiero di Adriana eh si concentra mh sia sulla mh analisi delle forme che questa violenza prende appunto eh non solo dopo l'11 settembre ma soprattutto con maggiore forza dopo l'11 settembre sia però anche mh a ehm sviluppare come dicevo prima in senso generativo eh un'etica e una filosofia politica della relazione e della vulnerabilità che ehm prenda finalmente congedo da ogni eh funzione strumentale o morfogenetica come dicono i filosofi della politica della violenza. La violenza non produce alcun ordine ulteriore, la violenza non è strumento della politica ma diventa addirittura fine della politica stessa quindi è necessario un altro immaginario, un'altra cornice di senso per ehm per pensare la politica e per immaginare eh la nostra futura convivenza. Ehm e quindi in questa in questa linea di ricerca da orrorismo in poi Adriana scrive anche un libro molto importante un breve dialogo eh con i cardinani di scuola che si intitola non uccidere eh e poi c'è appunto inclinazioni che è il testo ehm che si discuteva in questo volume che oggi presentiamo e successivamente di di recente uscita eh democrazia sorgiva eh democrazia che è questo testo uscito nel duemiladiciannove da Cortina dove ehm Adriana appunto riflette sulla dimensione originaria e mh sorgiva della democrazia e questa eh io che seguo Adriana da molto tempo noto proprio una un percorso nel suo pensiero che va come vi dicevo nell'ultimi mh quindici anni insomma da una riflessione critica sulla violenza a una apertura al dopo diciamo così a un immaginario generativo che ci aiuti a pensare eh in maniera nuova in maniera differente inaudita ehm la nostra relazionalità costitutiva che ha qualcosa di originariamente democratico direi io. Quindi io adesso ho parlato anche troppo eh mi fermo qui e lascio ad Adriana la parola senza però dimenticare di dirmi una di dirvi un'altra cosa ossia che ehm nel pensiero di Adriana e nel pensiero di altre femministe ehm come appunto Judith Butler ma penso anche a una figura nostra amica che è che è da domani anni che avremo poi domani ospite per un seminario eh sempre in questa forma ehm la teoria femminista ehm che nasce dal pensiero non solo dal pensiero della differenza questo va detto ma il fare femminismo di queste pensatrici è mh badate bene ehm far sì che il femminismo non resti legato alla questione sociale cioè le questioni di genere come questioni sociali sono una cosa invece lo sforzo teorico eh di questo tipo di femminismo è ehm come dire essere femministe smettendo di esserlo in qualche modo cioè teorizzare a partire da una relazionalità costitutiva che il femminismo della differenza insegna ma teorizzare non solo per le donne o non solo per risolvere le enormi eh disparità diseguaglianze eh che le donne soffrono ma è uno sforzo teorico alto per ripensare il soggetto per ripensare il soggetto e la politica in senso oserei dire universale ecco permettetemi questa parola basta mi fermo e lascio a te Adriana grazie ringrazio tutte eh sono contenta di partecipare in questa discussione Olivia citava il convegno di Brighton da cui è poi risultato questo libro una raccolta di saggi e io ricordo con grande nostalgia il convegno di Brighton perché era giugno c'era molto caldo eravamo molto assembrate c'era un tremendo assembramento di corpi un mescolarsi di voci una relazionalità molto forte e la esperienza generativa attraverso il dialogo la discussione attraverso come dire dei dei momenti che mi piacciono molto nel femminismo che sono non solo rapporti che noi di mestiere chiamiamo scientifici rapporti di discussione ma anche rapporti di amicizia che si riprendono si incrociano insomma esperienza viva no esperienza di corpi una delle sere siamo andate a cena andavamo a cena tutte assieme in un ristorante cinese e siccome cantavamo dove ci sono io sempre si cantano abbiamo avuto la sorpresa che i cinesi che guidavano i proprietari dei ristoranti del ristorante ci hanno cantato bella ciao in cinese se ne vedono di tutti i colori anche in questa esperienza comunque per stare al discorso che avete così ben introdotto e ai temi che interessano la vostra associazione che sono anche quelli che interessano a me io comincerei dalla distinzione di due modelli due tipi di soggetto di come sia stato pensato il soggetto uno è il soggetto moderno e in filosofia politica in moderno si fa cominciare con thomas hobs siamo a metà del seicento e la e che è un soggetto che io chiamo verticale egoistico e l'altro il tipo di soggettività di cui parlava già olivia guaraldo che è una soggettività invece relazionale che io chiamo altruistica allora brevemente sul primo tipo di soggetto possiamo proprio cominciare da hobs il quale come tutte sanno perché è diventata celebre l'espressione ipotizza anzi postula che per natura l'uomo lui dice l'uomo intende l'essere umano ma dice l'uomo e qui c'è una grande ambiguità che lasciamo giustamente lasciamo io dirò sempre l'uomo per stare con hobs e per colpevolizzarlo e lui dice l'uomo è per natura un individuo pieno di sé fondato in sé che pensa solo a sé e ha questi istinti di vita questi desideri di essere desiderio di potere lui dice per il quale è molto aggressivo è diciamo in competizione con tutti gli altri e questa sua aggressività lo porta a essere violento con qualsiasi altro sostanzialmente lui dice a ucciderlo a dare la morte e quindi ciascuno dalla morte per il suo egoismo autocentrato ma ciascuno anche può ricevere la morte e quindi ha paura della morte qui il grande obs di te per questo che tutti gli uomini sono uguali perché hanno alla pari in ugual misura paura di essere uccisi paura della morte ma in questa situazione di grande pericolo di paura di essere uccisi capiscono che la pace è buona cioè la pace è conveniente voi che siete di un laboratorio della pace teniamo conto di questo la pace non ha nessun ruolo fondativo la non violenza non ha nessun ruolo fondativo la pace il modo per raggiungere la pace è conveniente per poter ancora più sviluppare il proprio egoismo ma svilupparlo in sicurezza allora cosa fanno questi individui questi individui come sapete fanno il contratto creano lo stato lo stato sovrano lo stato ha la forza per imporre ordine e sicurezza quindi garantire la vita e la pace interna che questo ordine sicurezza di modo che l'individuo aggressivo possa sviluppare i suoi istinti seguire le proprie capacità nel nel realizzarsi nel realizzare i suoi desideri ma senza correre il rischio di vita perché c'è la polizia le forze dell'ordine che assicurano una pace una sicurezza interna la situazione questa situazione questa soluzione dello stato come garante di pace e sicurezza non garantisce però nulla verso l'esterno perché lo stato diventa a sua volta un grande individuo un grande uomo che è in competizione con altri stati e il la situazione che diciamo caratterizza questo essere insieme di tanti stati è di nuovo una situazione di conflitto di violenza e di nuovo di guerra adesso io non voglio andare nei particolari della posizione di questo grandissimo filosofo ma semplicemente insistere su alcuni punti che magari dopo riprendiamo assieme cioè una immaginario antropologico un immaginario di come è l'uomo per natura un immaginario che postula un individuo atomizzato violento aggressivo il quale crea uno stato altrettanto con capacità di aggressione e in tutto il processo il principio razionale che la pace è buona è un principio secondo soltanto strumentale di convenienza questa è una grande eredità per la modernità la modernità come dire fa tesoro di tutto questo e fa tesoro soprattutto con un pensatore un filosofo che segue immediatamente oves che è john locke anche qui potrei andare in particolare perché john locke è il padre di quella di quel filone che che noi possiamo chiamare democratico liberale john locke non descrive gli uomini per natura in termini così beluini come lupi che si fanno guerra l'uno contro l'altro li descrive invece come esseri razionali ma di nuovo individui fondati tu se stessi che anche sono titolari di diritti proprio perché sono individualmente fondati nella loro capacità nel loro essere giusto nel loro essere all'interno del diritto naturale questi individui quindi dovrebbero essere tendenzialmente pacifichi se non che se non che sono anche a fondazione della proprietà individuale e la proprietà individuale quando viene toccata da un altro se un altro attenta alla proprietà individuale allora l'individuo che così è stato colpito ha diritto di nuovo di essere violento di punire e di dare la morte al ladro o alla o l'aggressore quindi abbiamo un altro tipo di versione ripeto non belluina dove però e quindi appello alle giuriste perché anch'io come l'olivia guaraldo molta reverenza per le giuriste per le costituzionaliste che tutta la tradizione che da lì nasce che naturalmente nella tarda modernità si è molto sviluppata è molto più raffinata ma insomma questa grammatica iniziale della modernità del soggetto verticale individualista è una grammatica che si da una parte postula come dire un originarietà della violenza descrive un individuo aggressivo descrive un individuo che non ha assolutamente a cuore la pace come fondamento come naturale ma soltanto la pace come strumento conveniente tutto questo che ci può sembrare negativo e c'è il lato diciamo giuridico che questo individuo questa grande invenzione della modernità è titolare di diritti quando noi parliamo di diritti di individuo come titolare di diritti individuo libero autonomo autonomo indipendente non dipendente da altri noi parliamo questa grammatica cioè la stessa grammatica che postula i diritti individuali che è così fondamentale per la modernità e la contemporaneità è la medesima grammatica che mette a fronte fondamento dell'individuo stesso titolare di diritti il suo essere aggressivo il suo essere potenzialmente violento il suo pretendere ordine e sicurezza e il suo considerare la pace uno strumento conveniente uno strumento per assecondare i suoi diciamo istinti individualisti il suo istinto possessivo l'altro modello quello che sta a cuore a me all'olivia verona school alla tradizione femminista ma credo anche lorenzo bernini e credo anche a molte delle presenti a questa discussione l'altro modello ha una prospettiva completamente diversa e dice la fondazione di ciò che è umano la fondazione di dire che cos'è la soggettività umana non è nel sé nell'io nell'io verticale ma nell'altro l'altro che mi guarda l'altro che mi interpella dice un grande filosofo ebreo che si chiama emmanuel levinas l'altro che mi costituisce cosa voglio dire già è stata citata a nare questa questo secondo modello di soggettività diciamo che grosso modo così come io lo frequento vede confluire di due filoni il filone femminista cioè l'attenzione al corpo l'attenzione alle relazioni l'attenzione alle dipendenze dell'una dall'altro dell'uno dall'altro questo grande filone femminista che ormai diciamo ha almeno un centinaio di anni ma che si è accelerato nella seconda metà del novecento e un filone minore di pensiero ebraico anche quello che insiste su intersoggettività sulla dipendenza e qui cito a nare emmanuel levinas e prima ancora rosenzweig era uno studioso di legge all'inizio nella sua gioventù era uno studioso anche qui sarebbe interessante ripercorrere questa tradizione ebraica minore ma insomma io vedo il confluire di di questi due pensieri di questi due modi di pensare alla soggettività e citando appunto anna arendt è fondamentale focalizzare la categoria di nascita di natalità voi ricordate che grande cartesio prima ancora di robs dice codito ergo sum penso dunque sono e uno è un individuo che si mette al mondo da solo col pensiero indipendente autonomo indipendente libero libero dal mondo è anche criterio di verità con cancer anche criterio di legge morale l'individuo proprio totalmente concentrato totalmente verticalizzato per cui l'altro c'è anche ma è diciamo sostanzialmente qualcuno che compete con me se avessimo tempo visto che siamo tutti e tutte università dovremmo anche ricostruire il legame fra questa idea dell'individuo competitivo e quello che chiamiamo adesso il modello meritocratico e questa competitività degli atenei delle comunità scientifiche che ci spinge a pubblicare il più possibile per competere con altri soggetti ma lasciamo perdere queste faccende accademiche un po noioso quello che volevo dire è che se noi prendiamo la natalità la scena della nascita abbiamo di fronte uno scenario molto semplice anche molto evidente c'è qualcuno qualcuna che viene al mondo chiamiamolo l'infante e questo qualcuno che viene al mondo questa prima fase dell'umano questo inizio dell'umano di ciascuno e ciascuna di noi in quanto siamo umani e siamo nati e siamo nati e nate da madre viene da altra da cui dipende per la sua stessa esistenza la madre è totalmente esposto a all'altra alla madre e totalmente esposto agli altri totalmente esposto perché è estremamente vulnerabile voi capite che l'inizio dell'esistenza lo scenario primo dell'esistenza è una totale dipendenza e vulnerabilità quindi lì l'individuo autocentrato autofondato questo sogno maschile è impossibile diventa una favola lì abbiamo una rete di dipendenza una rete di dipendenza che viene dall'acceggiamento etico ossia dalla cura dalla non violenza che viene dall'altra dalla madre e dagli altri che possono ferire con il vulnus ma possono ferire questo assolutamente vulnerabile che è estremamente inerme nella infanzia voi capite che la stessa cosa possiamo dire facilmente per la vecchiaia possiamo dire facilmente per i soggetti che sono evidentemente più vulnerabili i vecchi malati ma possiamo dire per ciascuno e ciascuno di noi in ogni momento dell'esistenza perché siamo esseri strutturalmente vulnerabili siamo esposti esposte alla ferita siamo totalmente dipendenti dall'altro dall'altra che invece di darci il vulnus invece di ferirci ci cura ci accudisce e siamo uno e l'altra ognuno ognuna dipendente dall'altro dall'altra in una serie di dipendenze di relazioni che non finiscono mai e che sono questo ci tengo sempre dirlo non equilibrate ma squilibrate se voi non pensate a qualche cosa di semplice un piano orizzontale dove ciascuno dipende dall'altro nello stesso modo e che poi se cura l'altro avrà in cambio di essere curato quando sarai una situazione di estrema vulnerabilità non è così così è solo nella nostra fantasia noi ci troviamo continuamente come infanti come giovani come vecchi come innamorati come colpiti da depressione o quello che volete noi ci troviamo continuamente in situazioni in cui ciascuno e ciascuno dipende in determinati modi in determinate circostanze dall'altro e dall'altra quindi questo tipo di soggettività non si costituisce di per sé ma è costituito dai legami con l'altro con l'altra quindi l'altro l'altra non è qualcuno che c'è anche semplicemente e che è competitor con cui competo ma l'altro è colui o colei che mi ha messo al mondo e dalla quale dipendo questo tipo di soggettività e qui di nuovo una sfida le giuriste io capisco che la tradizione del diritto essendo moderna è incentrata sull'individuo verticale sui diritti individuali ma a mio avviso se noi volessimo veramente operare un cambiamento dovremmo invece pensare a un diritto che è fondato su soggettività relazionali vulnerabili dipendenti dall'altro su corpi direbbero in le mie amiche americane un linguaggio fortemente femministe radicale su corpi dipendenti esistenze corporee dipendenti questa è una sfida secondo me per il diritto e quali sarebbero i guadagni di questa sfida che con questa sfida noi tentiamo di pensare la pace non come strumentale perché conveniente a me come individuo possessivo come individuo che vuole godere di queste delle proprietà tranquillamente o che vuole che le mie proprietà siano difese siano sicure in questa prospettiva non c'è una pace strumentale alla fine ma c'è una spazio strumentale all'inizio una pace strumentale una pace voglio dire non strumentale una pace fondativa all'inizio perché l'inizio è possibile e si dà vita e si dà umanità e si dà crescita e si dà etica perché all'inizio abbiamo bisogno di cura e questa cura in quanto vulnerabile è qualche cosa di cui abbisogniamo sempre continuamente per cui l'inizio è la non violenza cioè l'inizio è la cura la carezza invece che il vulnus e anche la fine è la cura e la carezza invece che il vulnus quindi qui l'idea di non violenza di pace è molto fondativa e qui voglio ancora dire due cose e poi mi taccio una se l'olivia mi mette l'immagine di leonardo da vinci dico intanto che aspetto che sotto la mia immagine zoom c'è scritto olivia guaraldo mi sentite sì allora se vedete questa immagine questo è un famoso dipinto di leonardo che si chiama sant'anna la vergine e il bambino con l'agnello vi faccio vedere questa immagine sulla quale ho lavorato perché diciamo rappresenta iconicamente attraverso la grande arte di leonardo quello che io intendo per soggettività inclinata non verticale ma inclinata e relazionale voi vedete come maria sieda in un grembo a anna sua madre e come maria sia così inclinata verso il bambino che se non ci fosse anna che la tiene diciamo in equilibrio cascherebbero tutti e tre vedete che è molto squilibrata l'inclinazione di maria accanto vedete un albero che è invece il tipico simbolo fallico della verticalità e con la l'arte di leonardo voi vedete che abbiamo una rappresentazione dell'umano in relazione che si tiene attraverso una serie di inclinazioni e sullo sfondo che che diciamo che femminile di per sé perché qui è una rappresentazione alla lettera della inclinazione materna inclinazione materna della cura e sullo sfondo questo albero dritto la verticalità diciamo maschile fallica del soggetto che si sede su di sé dopo avervi fatto vedere queste immagini che da un po l'idea esprime quello che io voglio dire a mio avviso in maniera efficace volevo dirvi un'ultima cosa adesso rimanga poi togliere volevo dire in ultima cosa io ho fatto buoni studi come molti di voi e ho fatto buoni studi nella filosofia politica esso che dal punto di vista così dell'opinione comune il vero filosofo della politica è realista cinico ossia sa quello che già diceva ho se poi hanno detto tutti fino alla nostra contemporaneità cioè sa che l'individuo egoistico aggressivo che occorre uno uno potere di ordine per inquadrarlo per disciplinarlo sa che quello che sceglie l'individuo è la sua convenienza che la pace è la sua convenienza ma quando la convenienza è vendere armi per esempio la pace non è più sua convenienza tutte queste cose realistiche che crederebbero ciecamente nella realtà di un individuo violento e aggressivo come se questa fosse la natura stessa dell'umano tutto questo questa verità realistica è indicata come criterio della filosofia politica perché il filosofo è colui che riflette che sa queste cose il filosofo sempre un po macchiavellico descrive la verità quindi siccome ho avuto dei buoni studi e queste cose le so e le ho studiate io sono consapevole che il tipo di proposte che faccio che facciamo possono sembrare molto utopiche utopistiche per citare l'olivia lei dice dovrebbe fare una filosofia del bene ecco quando noi diciamo che vorremmo fare una filosofia del bene o che stiamo tentando di fare una filosofia del bene una filosofia pacifista sappiamo che appaiamo non solo poche realisti ma molto ingenue lo dico con un vocabolo televisivo giornalistico molto buoniste ma non è che non sappiamo questo che c'è questo rischio e che sarebbe molto meglio invece essere ciniche e dire veramente le cose come stanno continuare a contrabbandare la naturalità di questo individuo autocentrato egoistico violento perché allora scegliamo questa via utopica o per lo meno perché io ho sempre scelto questa via utopica perché credo nella forza dell'immaginazione utopica credo nella forza di osare di pensare che ci possa essere un cambiamento culturale è una cosa molto importante ultimamente ho avuto così l'occasione l'opportunità di rileggere mary wallstonecraft che aveva questa grande forza immaginativa utopica allora la lettera mary wallstonecraft quando immagine diritti delle donne questa società più giusta i suoi tempi in cui queste cose erano assolutamente impensabili lei scrive dobbiamo cambiare noi stesse per riformare il mondo sentite bene quello che dice nel 1792 cioè lei osa riformare il mondo sperare di riformare il mondo ora non è che il mondo sia stato totalmente riformato ora che siamo a centinaia di anni distanti da mary wallstonecraft però c'è stato un grande cambiamento alcuni dicono che il novecento il secolo il secolo delle donne il secolo del femminismo non possiamo negare che ci sia stato un grande cambiamento anche se non siamo certamente alla perfezione e anche se parlando da verona e diciamo la società veronese non siamo proprio all'avanguardia totale il progresso del mondo riformato ma questo non importa importa invece qui veramente concludo di non farsi intrappolare nel realismo con il suo cinismo che è qualche cosa di rinuncia che è qualche cosa anche di complice attraverso complice rispetto a questa soggettività violenta che immagina la pace solo come strumento conveniente non non dobbiamo essere più complici di tutto questo e per non essere complici dobbiamo ossare di immaginare il cambiamento ossare di ragionare in termini di non violenza di altruismo e di bene perché se non c'è questa sfida se non abbiamo questo coraggio se non c'è come dire questo atteggiamento utopico di speranza e generativo di mondi diversi di visione diverse allora potremo parlare di pace di pace di pace ma rischieremo sempre di stare all'interno di una concezione della pace della non violenza come ciò che più conviene per fare i nostri interessi e io non voglio essere di questa partita grazie o avete cambiato il nome grazie grazie era scusa no era solo quando ho condiviso l'immagine grazie davvero di questa bellissima beh insomma grazie anche a olivia io poi dopo di che vi siete passati la parola bellissimo anche questo dialogo volevo solamente di ringraziare entrambe in particolare la professoressa cavarero che mi ha veramente arricchito prima di passare la parola al professor vernini volevo appunto fare una riflessione con lei proprio da costituzionalista perché giustamente il mestiere della filosofa politica insomma il vostro mestiere è quello di soprattutto adesso di tenere in qualche modo staccato quello che è l'aspetto sociologico anche di impatto con la realtà rispetto ovviamente all'aspetto delle idee quindi questo mondo è vero che da un certo punto di vista questo figura di questo soggetto nuovo anche l'etica della relazione rispetto facciamo all'etica individualista sembra essere un qualche cosa di utopico o comunque di meno legato alla realtà in realtà poi ci sono ci sono tanti momenti storici per esempio anche il momento costituzionale è un momento di grande relazione in cui per fondare un nuovo ordine donne e uomini dell'assemblea costituente si uniscono e riescono praticamente anche a diciamo a fondare veramente una democrazia paritaria che poi di fatto però trova una difficoltà incredibile nel realizzarsi in parte appunto non è ancora realizzata nella nostra costituzione la le peculiarità anche del soggetto donna vengono riconosciute molto chiaramente come per esempio nell'articolo che che riguarda i diritti della donna lavoratrice quindi mi chiedo però ecco l'unica cosa su cui volevo appunto fare una domanda la professoressa cavarero ovviamente risponde dopo ma su cui mi sto interrogando molto è che questo questo aspetto del che appunto nel libro viene definito come la postural ethics of non violence raffigurato benissimo anche nel quadro di leonardo ma il legare la donna e la naturale inclinazione della donna diciamo per natura all'essere appunto essere di relazione a una maternità vista non come dovere ma come diciamo naturale inclinazione non è ancora in una società così disuguale così profondamente ingiusta e soprattutto una società come quella italiana che non ha ancora di fatto superato il modello patriarcale perché anche tanti aspetti della violenza contro le donne si hanno una spiegazione che è ancora appunto nel rifiuto diciamo di un'autonomia e di una parità vera della donna ecco non rischia di riprodurre uno stereotipo o perlomeno come facciamo a fare in modo che non sia che la donna poi non sia in qualche modo ghettizzata in un ruolo materno che potrebbe in qualche modo poi sempre lasciare una separazione di ordini cioè un ordine appunto diciamo una sfera pubblica in cui la donna appartiene meno anche perché naturalmente meno propensa invece una sfera privata che poi è la sua sfera ecco la mia diciamo il mio interrogativo come giurista ovviamente e come ovviamente ignorante poi diciamo di tanti di tanti aspetti più profondi di questo pensiero è un po' questo ed è molto bello però questo questo rapporto fra fra diciamo il la possibile diciamo questa idea questo principio che la professoressa cavarero ha oggi esposto in maniera così chiara cioè della necessità che la pace si trasformi e che non diventi eh e non rimanga come purtroppo è ancora oggi eh in una visione appunto che hai fatte risale OBS uno strumento eh di ehm diciamo ehm un utilità semplicemente ci sia una pace utilitaristica è più utile essere in pace piuttosto che non in guerra perché poi se ci sono momenti storici come abbiamo visto drammaticamente appunto eh anche nel nel novecento e ancora adesso ci sono momenti storici o situazioni geografiche in cui sembra più utile invece fare la guerra allora la guerra si fa e eh tutta una serie appunto anche di ehm di ideali o di anche principi sovranazionali costituzionali che sono scritti vengono tranquillamente bellamente eh come si dice ignorati bene io eh mi sono presa anche troppo tempo e do immediatamente la parola al professor Bernini anche lui professore di filosofia politica presso l'università di Verona eh e anche ehm direttore del centro politica e teorie della sessualità eh quindi mi fa molto piacere darvi la parola a conclusione di questa prima parte del dialogo grazie allora innanzitutto appunto permettetemi eh di iniziare con dei ringraziamenti ringrazio Marelisa ringrazio Enza Alessandra l'università di Milano di Pisa di Verona e la rete dell'università della pace tutta per averci offerto appunto questa occasione di riflettere sul pensiero di Adriana Cavarero con Adriana Cavarero in occasione lo ripeto eh della giornata internazionale delle donne e anche in occasione della pubblicazione eh del libro che dà il titolo all'iniziativa ecco e permettetemi anche a me di condividere il mio ricordo personale del convegno di Brighton del giugno duemiladiciassette eh da cui eh questo libro come è stato detto ha preso le mosse è è un ricordo molto vivido di quello appunto che non è stato solo un evento dal vivo eh ma che è stato un evento molto vivo eh molto vivo molto vivace affollato come ha ricordato Adriana di relatrici eh e eh di pubblico ha sembrato festoso ecco un evento che adesso no parlando dal mio loculo di zoom chiuso in casa eh durante questo nuovo lockdown anche io non posso che ricordare con grande eh nostalgia e infine eh permettetemi un'altra esternazione di sentimenti permettetemi eh di esprimere eh i miei eh sentimenti di eh onore di felicità e di gratitudine per eh aver avuto l'opportunità di lavorare assieme a Olivia Guarardo con Adriana Cavarero per più eh di un decennio e ancora adesso. Ecco dunque mi ripeterò alcune cose che ha detto Adriana visto che parliamo eh del suo pensiere. Vorrei precisare che quello che stiamo discutendo qui l'etica femminista della non violenza è eh un cambio eh di paradigma. È proprio un rinnovamento radicale eh dell'immaginario. È io direi un pensiero rivoluzionario. Ecco come dimostra la presenza di Judy Bacher e Bonnie Goenig tra le autrici del volume e prima eh la loro presenza al convegno di Brighton dove sono state keynote speakers. Ecco come presenta anche la loro presenza come mh testimone della loro presenza nella sua grande originalità e innegabile originalità ehm e innegabile originalità Adriana non ha fatto questa rivoluzione da sola. Adriana come è stato già detto ha piuttosto contribuito sul piano della filosofia e non solo della filosofia come è stato eh ricordato a quella rivoluzione collettiva che è stata il femminismo. Eh una rivoluzione senza uguali nella storia dell'umanità una rivoluzione certamente eh incompiuta eh come dimostrano ancora il gas salariale la sottorappresentazione delle donne nella vita pubblica la massiccia perdita di ehm lavoro delle donne nella crisi eh pandemica la tragedia dei femminicidi eh quindi una rivoluzione certamente incompiuta ma anche una rivoluzione certamente vittoriosa eh perché i movimenti femministi e io aggiungo anche eh tutti i movimenti eh di liberazione sessuali movimenti LGBTQ più ecco questi movimenti hanno cambiato il mondo in un modo indelebile mh basta guardarsi attorno lo dimostrano le nostre vite eh le vite di tutte e tutti noi le vite di noi donne di noi uomini e di tutte coloro che stanno in mezzo tra il maschile e femminile oppure altrove eh lo hanno cambiato il mondo e lo hanno cambiato anche questo è bene ricordarlo in modo non violento agendo alla libertà in modo diretto intervendo nell'opinione pubblica cambiando il modo di pensare di fare io credo che si possa dire che quella del movimento femminista sia stata la più grande rivoluzione non violenta della storia dell'umanità che dà una via indica una via eh per i movimenti eh delle nuove generazioni quindi è possibile cambiare le cose è possibile cambiare il mondo agendo in modo diretto la propria libertà ma senza agire violenza questo è possibile e il femminismo lo ha dimostrato quindi Adriana ha contribuito e contribuisce a questa rivoluzione con il suo pensiero e come ci ha ben spiegato il suo pensiero è una sfida radicale a tutta la tradizione una tradizione filosofica moderna che è una tradizione scritta da maschi per altri maschi ripeto cose che lei ha detto soltanto un maschio che scrive per maschi può arrivare a negare psicoticamente la psicanalisi direbbe a forcludere l'evento della nascita eh solo un maschio che scrive per maschi può forcludere la nascita a tal punto da sostenere che ogni uomo si mette al mondo da solo con il pensiero eh è quello che ha fatto Cartesio no cogito ergo sum e solo un maschio che scrive per maschi può giustificare la sovranità dello Stato pensando la politica a partire da individui sovrani Hobbes ce lo dice chiaramente nel Decive pensare gli individui nello Stato di natura significa pensarli irrelati già adulti lui dice proprio questo come se fossero spuntati dalla terra come dei funghi eh come dei funghi però pronti a farsi la guerra l'uno all'altro spuntano questi funghi con le lance uno contro l'altro ecco questa finzione che lui sa bene essere una finzione ma questa finzione fonda la modernità ecco questa finzione gli serve a sostenere che la condizione originaria dell'umanità è una condizione di guerra e che soltanto l'istituzione di un potere sovrano che monopolizzi la violenza può sospendere la violenza naturale tra gli individui può sospenderla per riprodurla però su un'altra scala nella guerra tra stati sovrani questo è appunto il paradigma individualista e sovranista che fonda tutta la filosofia politica moderna e che ancora informa in gran parte il nostro immaginario politico filosofico e non solo filosofico eh un paradigma che ha tante eh declinazioni eh ma che come ha detto Adriani in ultima istanza presuppone che le passioni degli esseri umani pensati come individui li spingano naturalmente alla violenza eh e che presuppone che anche dopo l'istituzione dello Stato la guerra resti un orizzonte ineludibile della politica ricordate il generale Clausewitz la guerra è la politica continuata con altri mezzi ecco ma questo vuol dire che anche la politica è una guerra continuata con altri mezzi e appunto a questa relazione come ci ha spiegato ben Adriana che il pensiero di Adriana reagisce eh con una mossa che è tanto radicale tanto rivoluzionaria quanto semplice direi perché le mosse rivoluzionari radicali sono sempre semplici a queste finzioni dei filosofi maschi Adriana semplicemente in realtà il suo pensiero sapete è molto complesso ma insomma però c'è questo gesto semplice alla base Adriana semplicemente contrappone la realtà eh alle fake news contrappone la realtà non è vero che gli esseri umani si mettono al mondo da soli con il pensiero non è vero che gli esseri umani spuntano dalla terra già adulti come dei funghi eretti uno di fronte all'altro pronti a combattere uno contro l'altro la scena originaria dell'umano non è il combattimento non è la guerra non è la morte ma è la nascita è il parto è la vita e ogni essere umano viene al mondo infante inerme partorito dal ventre di una donna e se diventa adulta adulta dotata in un certo grado di autonomia capace di restare retto è in virtù esclusivamente delle cure che riceve da chi si inclina su di lei su di lui che tradizionalmente tradizionalmente la madre ma non solo la madre non sempre la madre questo direi insomma che si tratta di una verità auto evidente all'esperienza di ognuno di ognuna ma il pensiero politico moderno si fonda precisamente sull'occultamento di questa vari eh di questa verità l'ideologia patriarcale maschilista nella modernità ha obliterato questa verità per giustificare la sovranità degli stati in guerra nell'arena internazionale a partire dalla sovranità dell'individuo in guerra nello stato di natura ecco invece Adriana fa di questa verità auto evidente della nascita una risorsa per pensare la politica oltre la cornice interpretativa della guerra che è la cornice moderna per rifondare la politica su un'etica della vulnerabilità e della cura e questa è la mia proposta interpretativa che vorrei discutere con lei eh su un'etica appunto della vulnerabilità e della cura che è più di un'etica non violenta hm il titolo dell'iniziativa è eh parla di etica eh della non violenza ma quella di Adriana in realtà è più di un'etica non violenza cioè quella di Adriana è un'etica pacifista anzi è un'etica più che pacifista se guardiamo bene perché ricordando questo debito ontologico verso chi lo ha messo al mondo verso chi si è inclinata su di lui per consentirgli di diventare adulto ogni essere umano potrebbe dovrebbe questa l'etica l'imperativo etico dovrebbe dismettere la postura del narcisista intellettuale cartesio hm o del fungo belligerante Hobbes non soltanto per vivere in pace con l'altro umano ma anche per inclinarsi a sua volta sull'altro umano quindi non soltanto dovrebbe astenersi da vulnerare l'altro ma dovrebbe rendersi dovrebbe ehm prendersi cura della vulnerabilità dell'altro come ha detto Adriana citando Olivia la sfida di Adriana è pensare il bene eh sintonizzarci sulla originaria postura inclinata dell'umano significa per Adriana volere il bene dell'altro umano fare il bene dell'altro umano infatti come ci ha ben spiegato la scena originaria originaria della dipendenza non si estingue con la nascita eh quella origine si perpetua eh nell'esperienza ineludibile della relazionalità e dell'interdipendenza dell'umano siamo sempre in relazione siamo sempre legati l'uno all'altra ecco a questo proposito vorrei prendere eh anch'io ehm riprendere anch'io le parole di un'altra eh protagonista italiana della ehm rivoluzione femminista in da domini anni che qualche giorno fa durante un altro eh seminario proprio dialogando idealmente con Adriana ha evidenziato ad esempio quanto anche la situazione pandemica sia un'epifania della relazionalità e della vulnerabilità hm cioè il covid ha reso evidente quanto siamo inrelati l'una l'una con l'altra vulnerabili l'una all'altra bisognosi l'una della cura dell'altra eh dominiani ha utilizzato il bellissimo ehm neologismo di Dante no il verbo intuarsi eh intuarsi il paradiso nel canto nonno la pandemia ha reso lampante quanto siamo intuati uno all'altro quanto l'io abbia bisogno del tu come il tu dell'io però ha anche dimostrato quanto possiamo essere l'uno per l'altro pericolosi hm l'esempio che faceva Ida che è un esempio che in me risuona fortemente è la relazione con un genitore anziano hm abbiamo imparato che curarci dell'altro paradossalmente può significare astenerci dall'inclinarci su di lei su di lui eh astenerci dall'entrare in contatto con lei o con lui curare senza toccare curare a distanza eh curare senza contagiare curare senza ferire senza vulnerare ecco perché se da un lato la pandemia ha reso evidente la necessità di un'etica della cura dall'altro lato ha anche reso evidente quando l'indiquanto l'individualismo e questo immaginario eh guerresco siano in realtà ancora pervasivi anche durante la pandemia sappiamo tutti che le metafore belliche hanno imperniato e continuano a imperniare l'intera narrazione del covid diciannove siamo in guerra contro il virus no gli ospedali sono la prima linea eccetera eccetera l'individuo obesiano che forclude la propria corporeità eh non si è affatto dileguato eh di fronte a questa epifania della vulnerabilità ma ha trovato nuove incarnazioni no il no mask che se ne frega dell'altro eh o al contrario che incontra l'altro organizzando delle feste clandestine oppure pensiamo a quel fenomeno che a me colpisce molto delle risse tra i giovani che si danno appuntamento via i social via social esclusivamente per menare le mani no rischiando chiaramente di prendere il covid e di trasmetterlo agli altri giovani in rissa e poi ai propri familiari a casa insomma la situazione pandemica anche la situazione pandemica mi sembra confermare che di fronte alla scoperta che in questo caso è patente della vulnerabilità reciproca non è detto che la risposta del soggetto sia la cura anche la situazione pandemica conferma che quella tra l'individuo eretto e il soggetto inclinato tra violenza e cura è una partita sempre aperta che si gioca ogni volta nella contingenza del qui e dell'ora ecco per giocare questa partita nella squadra giusta io credo che l'etica femminista della non violenza costituisca uno strumento necessario nella versione che ne dà Adriana di quest'etica oppure in altre versioni differenti io vorrei proprio concludere ancora pochi minuti accennando a queste differenze nel tentativo di aprire un'interlocuzione con Adriana con Olivia e una discussione ecco perché per dare conto della permanenza di questa permanenza che sembra costitutiva di questa alternativa tra individualità belligerante e soggettività relazionale altre filosofi hanno riflettuto più di quanto abbia fatto Adriana e di quanto Adriana voglia fare ce l'ha già detto e ce lo ripeterà probabilmente e hanno riflettuto di più sull'ambivalenza dell'umano assieme a Dominiani possiamo citare anche possiamo rinominare di nuovo Judith Butler Butler che è debitrice verso Adriana per la lettura di Emanuele Levinas lo dice più volte ma che poi legge Levinas in modo diverso da Adriana lo legge per mettere in luce come il soggetto della cura e il soggetto della violenza non siano due soggetti diversi ma siano lo stesso soggetto un soggetto ambivalente che al cospetto della vulnerabilità dell'altro si trova contemporaneamente nello stesso momento di fronte alla tentazione della violenza e alla chiamata della responsabilità appunto la chiamata della non violenza e della cura ehm Adriana mi sembra in orrorismo e poi anche non uccidere forse e contesta Butler eh di eh pensare la vulnerabilità ehm a prescindere anche lei eh dalla scena della nascita del parto eh e nell'ultimo libro Butler sollecitata da Cavarero e citando inclinazioni si confronta eh finalmente con la scena eh della nascita però poi mi nello stesso libro utilizza la psicoanalisi Sigmund Freud Melanie Klein e sostanzialmente ci ricorda quanto anche la cura dell'infante sia in realtà un'attività complessa e ambivalente quanto il soggetto che cura sia anche un soggetto che opprime e che è oppresso dalla presenza del neonato della neonata quanto addirittura la cura e l'amore si alimentino della resistenza alla tentazione della violenza e dell'aggressività ti amo perché non ti ferisco e anzi ti curo ti curo anche se mi stai strillando nelle orecchie e non mi fai chiudere occhio da tre notti. Nella rivoluzione non violenta delle filosofie femministe insomma l'etica di Adriana sta in dibattito con altre etiche che sono non violente ma eh non approdano mi sembra allo stesso pacifismo e più che pacifismo di eh Adriana cioè etiche che non direbbero come ha detto adesso Adriana che l'inizio è la pace eh etiche che scendono maggiormente a patti con il carattere conflittuale della socialità della politica della relazionalità umana con quel carattere conflittuale della nostra esistenza che persino la situazione pandemica ci sta confermando. Etiche che sono disponibili a riconoscere più di quanto non voglia fare Adriana il carattere costituzionalmente conflittuale del soggetto stesso con se stesso fin dal suo venire al mondo. Appunto come riprendo quello che ha detto Adriana etiche più realistiche etiche femministe non violente ma più realistiche meno utopistiche. Ecco ma proprio per questa ragione è anche meno sfidanti meno radicali nel tentativo di pensare il bene. Un tentativo che invece Adriana ha il coraggio di operare assieme a poche altre in Italia potremmo nominare almeno Elena Polcini oltre che Olivia Guaraglio. Quindi vorrei sapere che cosa ne pensa Adriana, che cosa Olivia, che cosa tutte e tutte voi e chi ci sta ascoltando di queste differenze tra etiche pacifiste ed etiche non violente. Questa è solo una proposta per la discussione e naturalmente possiamo discutere anche di altro ma insomma questo è un tema che a me andava di sollevare. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie per questo intervento, veramente molto interessante anche con queste riflessioni poi diciamo calate sulla pandemia. La pandemia effettivamente è stato un momento di riflessione poi per tutti noi che, per chiunque purtroppo, ma anche proprio negli ambienti universitari e anche nell'ambito di discipline diverse perché veramente ha avuto un impatto sul costituzionalismo, sulla filosofia, su tanti aspetti molto importanti. Allora io volevo intanto ringraziarvi tantissimo ma rimango con voi, però abbiamo diciamo deciso poi di dividerci gli spazi anche e quindi ridarei la parola per coordinare anche il dibattito alla professoressa Cordiana, sbaglio, o la professoressa Pellecchia, chi delle due? Sì, vado io. Alessandra controlla la chat, verifica le richieste di interventi. Grazie, veramente tantissimi stimoli, tantissime sollecitazioni, devo dire tantissime emozioni. All'inizio è una carezza, alla fine è una carezza, è una cosa che porterò con me da questo pomeriggio, come elementi su cui continuare a riflettere. E veramente grazie ad Adriana Cavarero per questa chiamata alla responsabilità, alla responsabilità di un pensiero che osi pensare l'impensabile, che non sia un pensiero colonizzato dal realismo e dal cinismo e che osi ragionare in termini di bene, di speranza e di pace. Mi riempie questo invito, questo senso di responsabilità, perché la rete delle università per la pace nasce proprio con questo obiettivo e il desiderio che ho manifestato all'inizio come piccolo gruppo che sta riflettendo sulla elaborazione di un sguardo diverso sul tema della pace va proprio in questa direzione. Ora io vorrei prima di tutto chiedere a Olivia e ad Adriana se hanno da replicare qualcosa, se vogliono completare i loro interventi con qualcosa che non hanno avuto modo di prima, anche rispondendo alcuni interrogativi sollevati da Lorenzo e quindi prima di tutto do la parola a loro per chiedere se vogliono fare un secondo giro di precisazioni e poi possiamo aprire al dibattito e agli interventi del pubblico. So che si è già prenotato l'amico e collega di Pisa, Tommaso Greco, al quale poi cercheremo di dare la parola. Intanto però la parola ad Adriana e a Olivia. Sì vai Adriana. Sì, se posso riprendere brevemente perché naturalmente tutti i quesiti, le questioni sollevate richiederebbero grande tempo di riflessione. Però brevemente su due temi che mi pare importanti chiarire. Uno posto da Marelisa e da Mico su questa cosa che in fondo io ripropongo lo stereotipo della donna oblativa che sta nell'ambito domestico, che cura i bambini dopo 200 anni di lotta per l'uguaglianza, non è una gran cosa. Allora io dico in primo luogo all'inizio di questo collegamento si è citato più volte il mio libro Nonostante Platone, che è un libro del 1990. Io già da Nonostante Platone, poi per tutto il corso della mia vita ho sempre preso gli stereotipi e cercato di risignificarli. Ho rubato figure stereotipiche risignificate e ricontestualizzate. Per quanto riguarda la maternità e l'inclinazione materna, io non vedo perché siccome è uno stereotipo e siccome alla fine ci confina in casa e continua a tramandare l'immagine della donna edulcorata che sta a casa e guarda il bebè, siccome è stereotipico allora io dovrei rinunciare a tutta la grande potenza significativa che ha questa immagine, questa icona, questo stereotipo. Voglio dire, siamo obbligate a essere madri? No, assolutamente no. Non è che la donna, il significato della donna si riassume e si attualizza nel diventare madre. Ma siamo nate tutti e tutte da madre? Sì. Perché non devo parlare della potenza di questa figura? Secondo, perché non devo valorizzare e risignificare tutta la potenza dell'inclinazione, dell'inclinazione materna, non per ribadire il suo essere chiusa nell'ambito domestico come separato dagli ambiti dei poteri e dei saperi, ma perché trasportandola dall'ambito privato domestico all'ambito pubblico, etico generale, pubblico e politico. Lorenzo Bernini ha citato giustamente la questione della pandemia. Allora, l'ha già detto lui, ma lo ripeto. Nella pandemia, usare l'etica individualista, verticale, io non ho paura del virus e vado in giro senza mascherina, significa aiutare il lavoro del virus, usare lo stereotipo dell'inclinazione, dell'essere in relazione attraverso la distanza, dell'agire in base al principio che non ho paura di infettare me, ma ho paura di infettare l'altro, che io sono un veicolo per l'infezione verso l'altro, questo modo di cura, di inclinazione, che potrebbe appunto risalire al materno, essere confinata nel privato, in verità è diventata l'unica etica pubblica possibile, l'unica etica pubblica possibile. E molte reazioni dei miei colleghi, cito Agamben, Giorgio Agamben, anche perché in passato ha insegnato a Verona, e perché è un pensatore molto conosciuto. Lui ha cominciato a reagire dai primi, dalle prime settimane di pandemia, quando eravamo tutti in lockdown, a reagire citando queste categorie del politico che sono accusiamo la dittatura sanitaria, dobbiamo essere liberi. Tutta questa grammatica è una grammatica che può fare molti omaggi a Thomas Hobbes, giustamente, in questo caso a Karl Schmitt, ma è una grammatica che lavora in favore della pandemia. E la pandemia non è un'idea, è una cosa reale, questa è natura. Quindi voglio dire, io non ho nessuna paura di usare gli stereotipi, anzi, praticamente lavoro solo su stereotipi, sulla risignificazione di stereotipi, e poiché siamo tutti e tutte nate da madre, e la madre è la protagonista del scenario della nascita, benvenga la potenza materna per capire la nascita e capire l'umano nel suo inizio, senza contare la grande potenza della tradizione iconografica. Io ho fatto vedere Leonardo da Vinci, ma le rappresentazioni della Vergine col bambino, della Vergine col bambino, perché qui non abbiamo tempo, ma anche questo paradosso per cui chi partorisce è una Vergine, anche questo paradosso, non bisogna semplicemente ignorarlo, bisogna, come dire, rielavorarlo, vedere che tipo di potenza ha, ma qui non lo farò. Per quanto diceva Lorenzo, Lorenzo ha senz'altro ragione. Io ho imparato da Arendt, da Anna Arendt, ma ho anche imparato da Thomas Hobbes, che io ammiro molto. Io ho imparato la forza della responsabilità del pensiero, e la responsabilità del pensiero è pensare senza compromessi. Per cui sono, come Lorenzo ben sa, mi prende sempre in giro. Sono molto infastidita dal brodo psicanalista, per cui siamo buoni, ma siamo anche un po' cattivi. Siamo così, ma siamo anche un po' cosà. Ed è vero che dobbiamo essere liberi, ma anche un po' dipendenti. Perché mi pare veramente un atteggiamento che non assume la forza della responsabilità, non abbastanza sfidante, che non assume la forza della responsabilità. Credo che se Mary Wastoncraft avesse detto, invece di avere questo coraggio di dire cambiamo, riformiamo il mondo, avesse detto, sì le donne sono come di uova, ma sono anche un po' donne. Sono un po' femminile, devo stare un po' a casa, ma anche stare in pubblico. Se avesse detto queste cose, saremmo molto indietro rispetto a quei guadagni di cui Lorenzo parlava. E proprio perché parlo a Lorenzo, tu sai benissimo, perché c'è scritto su, che certi elementi, per esempio il termine queer su cui tu hai scritto, che è molto stereotipico, cioè che in origine voleva dire uno strambo, così, uno un po' diverso, una via di testa così, ma veniva detto in modo molto negativo rispetto al vero soggetto eretto, che è stato preso e ripensato, risignificato come termine positivo, generativo e liberatorio. Comunque concludendo, io sono sia per l'uso e la risignificazione politica degli stereotipi sia per una, come dire, un pensare senza compromessi, non approfittare di una categoria così liberatoria, così, non voglio dire liberatoria, così spensierata come l'ambiguità. Noi se applichiamo ogni cosa alla categoria di ambiguità possiamo anche fare a meno di pensare, perché tanto siamo un po' buone, un po' cattive, un po' pacifiste, un po' belligeranti, un po' qui, un po' là, no, mi piacciono un po' i gay, un po' non mi piacciono, sono un po' donna, un po' uomo, e mi pare un modo di pensare certe volte esteticamente molto interessante, molto interessante, ma estremamente improduttivo, quasi irresponsabile. Grazie Adriana. Prima di dare la parola ad Olivia, vorrei chiederti una cosa. Si può dire che la postura inclinata è un'attitudine che si fa scelta? Diciamo che non è un'attitudine che si fa scelta, ma è un'attitudine, una postura, un modo di essere che ti pone di fronte alla scelta. Cioè, a mio avviso, la madre, di nuovo per stare su questo stereotipo, che io uso come modulo di immaginazione etica, la madre inclinata sul bambino sa benissimo che il bambino ha totalmente inerme e lei lo può curare, accudire, oppure lo può strozzare, ma con una facilità estrema. E noi conosciamo le infanticide, noi, voglio dire, nella nostra stessa cultura è impressa la figura di Medea, la grande infanticida, e questo è ciò che qualifica la postura inclinata come una postura etica. Perché, come dici tu giustamente, se non ci fosse una scelta, se fosse semplicemente questione di naturalezza, allora ci sarebbe una naturalezza, ma non ci sarebbe mai un'etica. Gli animali non hanno un'etica. Siamo noi che siamo, come dire, nella scelta, nell'alternativa fra ferita e cura. E questo è il valore etico dell'inclinazione. Levinas dice è l'altro che mi interpella, ma posso anche voltare le spalle e non rispondere all'altro. Questa è la situazione etica, credo. Credo che sia un'etica radicale se c'è veramente un'alternativa. Quindi hai fatto molto bene a fare questa domanda. Grazie. Olivia, la parola a te. Sì, ma tantissime cose che si potrebbero dire, tantissime cose anche rispetto a quello che ha detto Lorenzo. Sono d'accordo in parte con quello che diceva adesso Adriana, cioè sul fatto della proposta forte, della responsabilità del pensare. forse ci sono, forse potremmo trovare una posizione di mezzo e dire che ci sono periodi storici in cui l'ambivalenza e l'ambiguità possono essere produttivi, periodi storici appunto più dogmatici, più rigidi e periodi storici in cui invece è necessario avere un atteggiamento più più forte, più più radicale rispetto anche alla postura teorica. Dal punto di vista della, volevo solo sollevare una questione perché la conclusione della relazione di Lorenzo anche rispetto alla pandemia in realtà solleva un'ambivalenza, cioè Lorenzo mette in evidenza le ambivalenze, ma la situazione della pandemia solleva un'ambivalenza e non so se si tratti di un'ambivalenza di quelle che Adriana rifiuta oppure di un'ambivalenza che invece come dire la sua fedeltà alla realtà, la fedeltà del suo pensiero alla realtà non può non negare ed è l'ambivalenza che abbiamo già sottolineato in altre occasioni, in altre discussioni che la pandemia ci pone di fronte a questa questione, cioè non solo noi tutti siamo legati gli uni agli altri da questa possibilità di, da questa condizione di vulnerabilità, ma questa condizione di vulnerabilità diffusa è tale in questo momento per cui noi siamo sia vulnerabili sia vulneratori, cioè noi siamo passibili di una ferita diciamo così che può venire dall'altro, ma siamo anche noi stessi magari spesso più delle volte in maniera inconsapevole portatori di una di un'azione diciamo che facciamo anche inconsapevolmente ma che colpisce la vulnerabilità altrui, quindi anche di fronte a questo mi chiedo cioè non anche mi chiedo questa ambivalenza è sì un'ambivalenza però è un'ambivalenza che ci pone ulteriormente di fronte al fatto che il paradigma del soggetto sovrano non funziona più, non funziona nella realtà per cui la mascherina non serve solo a proteggere me ma serve anche a fare in modo che io non infetto gli altri e quindi così riflettevo su questo tipo di ambivalenza che effettivamente ci pone di fronte a dei dilemmi a dei dilemmi non 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 indifferenti insomma anche rispetto adesso alla questione vaccinale al fatto che ci si vaccina insomma io che vivo con una persona che lavora nell'ambito della sanità e che appunto assume la postura di un realismo un po' cinico sostiene che le persone si vogliono vaccinare per proteggere se stessi cioè che ci sia come dire una che ci sia una pulsione proprio autoconservativa molto forte e mi sfidava perché io dicevo no non è solo questo ma mi sfidava a trovare degli esempi o insomma nella sua concretezza di lui che non è certo filosofo a trovare a motivare appunto a dire che viene prima la carezza ecco e mi rendo conto che la proposta di Adriana che è anche diciamo la mia il filone dentro il quale mi colloco mi rendo conto però che ha delle difficoltà diciamo così comunicative in qualche modo cioè che spesso prevale questa cornice cinico realista che è molto molto difficile da smantellare molto molto difficile da smantellare e nello stesso tempo per noi che siamo filosofe questo è un altro problema che io riscontro molto spesso questa idea questa proposta di provare a pensare in maniera intelligente il bene quindi non in maniera buonista o nella maniera in cui lo fa seppure in maniera egregia Papa Francesco è abbastanza difficile nel registro di un sapere che nasce come sapere critico qual è la filosofia mi rendo conto appunto che c'è una difficoltà a costruire un immaginario e il tentativo di Adriana con il materno è senz'altro un tentativo forte provocatorio proprio per come dice lei in inclinazioni a proposito dello stereotipo materno trasformare il pregiudizio che si ha nei confronti di questo stereotipo in una straordinaria capacità di giudizio lei dice questo utilizzare lo stereotipo con questa forza invece provocatoria e che ci aiuti a giudicare in maniera differente quindi questa di Adriana con lo stereotipo con la figura del materno con la potenza del materno è sicuramente una via interessante e forte le resistenze nei confronti di questo stereotipo che si incontrano moltissimo soprattutto in ambito femminista questo è interessante non nel femminismo della differenza ma negli altri ambiti femministi che frequento che frequentiamo lo stereotipo materno o meglio la come posso dire la forza di questo stereotipo la pervasività anche di questo stereotipo da una parte come dire come fa Adriana può essere un modo per utilizzarlo quasi auto evidente c'è una forza che sta nella sua auto evidenza che poi viene risignificata però la sua pervasività secondo me indica anche che abbiamo davvero esercitato poco la nostra immaginazione teorica la nostra tradizione non ha esercitato l'immaginazione teorica in questa direzione nella direzione appunto di un soggetto inclinato di un soggetto relazionale tanto che noi abbiamo o lo stereotipo materno oppure la parola cura e uno dei miei dilemmi ad esempio è la difficoltà di uscire anche solo dalla generalità di questa parola cioè di di non avere una una pluralità di lemmi e di parole che dicano o che vadano in questa direzione di una chiamiamola etica altruistica etica relazionale mentre abbiamo una pletora di termini e di parole sull'altro versante per dire guerra violenza conflitto e tutta la serie di aggettivi che vanno dietro a questo quindi io parlo così appunto adesso in maniera molto libera rispetto a percorsi di ricerca che sono comuni e sollevo ecco questa semplicemente queste queste questioni ma non do risposte grazie olivia lorenzo vuoi aggiungere qualcosa ma io non so se quanto tempo abbiamo se vogliamo invece dare la parola io avrei una cosa da dire magari la dico dopo insomma d'accordo va bene grazie la parola così perfetto 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 e Alessandra è possibile dare la parola a Tommaso Greco eccoci Tommaso sei panelista vai eccomi vai sentite ma non ti vediamo però non so come fare per attivare non c'ho comandi per attivare l'altro va bene sempre la panelista che lo deve fare no vabbè l'importante è che mi sentiate va bene allora intanto grazie infinite per questo straordinario e interessantissimo incontro che avevo incontrato abbiamo fatto un convegno insieme un po' di anni fa a Lugano organizzato da Maurizio Biroli e lì avevo avuto diciamo il piacere di conoscere una straordinaria pensatrice di cui insomma da tempo seguivo le pubblicazioni Inclinazioni è un libro che sì mi ha commosso e mi ha davvero esaltato anche perché diciamo il tentativo che io sto cercando di fare negli ultimi anni è quello di portare questo discorso dentro la teoria del diritto ora io ovviamente la faccio breve perché poi non è di me delle mie ricerche che devo parlare però mi fa piacere diciamo dare un feedback su questo su questo aspetto visto che è stato richiamato esplicitamente eccomi grazie è stato richiamato esplicitamente la la verticalità no del discorso giuridico e del discorso anche dei giuristi e credo che questa sia davvero una battaglia da fare che personalmente sto cercando di fare parlando di orizzontalità del diritto no non è l'inclinazione è un è un termine diverso ma la sostanza è quella quanto è possibile portare la relazione dentro il diritto devo dire personalmente per tanti anni pensavo che fossero alternative le cose cioè davo ragione ai giuristi che pensavano il diritto dentro le categorie della verticalità ma mi sono accorto che in realtà questo è un discorso sbagliato semplicemente perché è un discorso riduzionista noi tendiamo a vedere nel diritto solo la parte della sanzione la parte della minaccia della punizione la parte che diciamo parte va dai vigili urbani fino alla corte di cassazione attraverso i vari gradi di giudizio che mette in primo piano i giudici e così via quindi c'era da criticare questa riduzione che è dentro il discorso giuridico perché nel discorso giuridico o meglio nella struttura del diritto più che nel discorso giuridico nella struttura del diritto c'è e come la parte orizzontale la parte relazionale perché le norme giuridiche non sono norme come ci dice purtroppo tanta parte della più autorevole dottrina del diritto non sono norme che sono rivolte ai giudici per risolvere i conflitti ma le norme giuridiche sono innanzitutto rivolte ai cittadini per tenere determinati comportamenti e questo vuol dire che quando io devo tenere un comportamento nei confronti dell'altro devo uso un termine forte devo prendermi cura anche dell'altro se non con atteggiamento decisamente altruistico quanto meno anche a voler dare ragione diciamo a chi vuole per forza essere cinico però quanto meno per poter tutelare anche al meglio le mie le mie prerogative pensiamo a un contratto di compravendita o a tante altre cose che possiamo tirare in ballo e lo stesso nei comportamenti diciamo che ci sono stati richiesti in questa fase della nostra vita collettiva che io pensi alla mia difesa o pensi a difendere gli altri ma in ogni caso devo tener conto della presenza dell'altro quindi questo direi che è quello che anche la teoria del diritto deve fare e anzi io personalmente tendo a credere siccome si dice sempre che il diritto si basa sulla sfiducia e che anzi cerca di rimediare appunto alla mancanza di fiducia io credo che invece il diritto si fondi sulla fiducia e qui a proposito di responsabilità questo è un discorso che noi dobbiamo riportare dentro dentro anche i nostri insegnamenti e quello che diciamo agli studenti perché questo ha a che fare con con la responsabilità non solo noi nostra di docenti di insegnanti ma con la responsabilità di ciascuno nella vita collettiva cioè poi possiamo anche descrittivamente diciamo vedere che il mondo va da un'altra parte che segue altri percorsi però è proprio qui che allora si vede la responsabilità nel non fare delle cose mi spiego perché qui mi collego poi la faccio breve perché se no rischio davvero di rubare troppo tempo mi collego all'antirealismo io sono rimasto estremamente confortato dalle cose che avete detto un po' tutti ma soprattutto la professoressa Cavarero ho appena finito un lavoro su diritto e fiducia a cui ero stato tentato di mettere il sottotitolo critica del macchiavellismo giuridico e poi questo è diventato il titolo diciamo dell'introduzione anziché di tutto il libro ma è proprio questo il punto se noi diamo ragione ai cinici e ai realisti facciamo un'opera di collusione uso un termine forte ma la professoressa Cavarero è andata anche lei in questa in questa direzione cioè legittimiamo quello che che in realtà succede che non dovrebbe succedere allora io dico se noi insistiamo anche nella teoria del diritto e non possiamo non insistere nella teoria del diritto sulla presenza di una dimensione orizzontale relazionale eccetera se facciamo vedere che questa c'è non che deve esserci non è un discorso normativo ma c'è perché il diritto funziona in questo modo e lo abbiamo visto proprio in questo periodo funziona grazie al fatto che le persone se ne fanno carico ebbene questo ci porta anche a far vedere quando questo manca no se se tu hai dentro una relazione giuridica l'obbligo di prenderti cura anche dei diritti degli altri e delle necessità dell'altro è proprio quando non lo fai che vieni meno vieni meno ai tuoi obblighi e allora puoi sottolineare queste mancanze ma se invece io dico che il diritto è solo la sanzione il tribunale eccetera allora io legittimo a priori chi cerca di fare il furbo chi cerca di aggirare la norma magari pensando di non essere di non essere scoperto un ultimissimo passaggio se mi è consentito sul tema della pace che è stato secondo me impostato in una maniera interessantissima anche qui non faccio discorsi diciamo troppo troppo generali ma cerco di dare un contributo che viene dalla teoria giuridica secondo me molte delle cose che avete detto possono essere incrociate con una interessante distinzione che fa Zagrebelsky quando parla dei principi e dei valori e dice che i principi del diritto a differenza dei valori che sono qualcosa che sta davanti a noi e che dobbiamo raggiungere che paradossalmente possiamo raggiungere anche con mezzi che non sono coerenti con questi valori quindi per esempio tanto per stare in tema la pace attraverso la guerra il principio il principio invece è qualcosa che sta alle nostre spalle che guida il nostro cammino allora da questo punto di vista la pace la pace c'è non è qualcosa che noi dobbiamo costruire ma la pace è il punto di partenza è quella relazione è quella carezza che fa parte del nostro essere allora io non so qui forse le cose si potrebbero ingarbugliare forse qui c'è un discorso etico che fonda la nostra ontologia la pace c'è perché non può non essere il punto d'origine e allora anche qui faccio come come facevo prima per l'orizzontalità e per la relazionalità tutte le volte poi magari il mondo va in un altro in un altro senso ci sono le guerre ci sono i conflitti benissimo il mondo va in questa direzione però a maggior ragione noi possiamo segnalare che è una direzione sbagliata perché la pace sta alle nostre spalle non è che possiamo dire che la pace non c'è perché il mondo è cattivo la pace non c'è benissimo ma in realtà la pace è quello che dovrebbe esserci e dobbiamo essere continuamente responsabili nel costruirla o meglio non nel costruirla nel mantenerla perché è la nostra origine non è il nostro punto di approdo ho fatto forse un po' di troppe cose insieme anche un po' ma insomma ci tenevo a dare questo piccolo contributo e vi ringrazio molto ancora grazie Tommaso ricordo anche il fatto che abbiamo fatto numerose chiacchierate sulla necessità di cominciare a ripensare anche in termini di doveri oltre che in termini di diritti visto che mentre l'approccio fondato sui diritti è un approccio individualista il dovere chiama in causa la relazione e quindi ci pone in una prospettiva in una prospettiva diversa io se sei d'accordo continuerei a dare la parola o a leggere le domande che vengono fatte o le richieste di intervento e poi ridarei la parola alle relatrici e al relatore quindi Alessandra se mi aiuti c'è un ordine cronologico che tu hai tenuto presente stai cercando di tenere presente loro Alessandra scusa volevo dirti che uno degli interventi è di Alessandra Montalbano che è una nostra collega amica che sta negli Stati Uniti se la vuoi le daremo la parola le daremo la parola sì 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 assolutamente sì stavo cercando in ogni modo di appunto seguire l'ordine il primo intervento spero di leggere correttamente il nome Maxim Grigoroschuk dice da dove arriva dove si trova nei nostri corpi la forza generativa che ci permette di essere sempre inclinate e inclinati sempre ammesso che si debba essere sempre inclinati come ricordava il professor Bernini l'atto di cura è sempre dispendioso per entrambe le parti successivamente appunto c'è l'intervento di Alessandra che chiederei a Lorenzo di ammettere perché ha fatto una serie di domande eccola interessanti ma forse conviene appunto che intervenga lei direttamente prego Alessandra alla parola ecco sì Alessandra ecco il microfono stoppato brava beh grazie mille non mi aspettavo di apparire ho semplicemente scritto una serie di domande che Adriana ti leggo bellissima la presentazione infatti ho scritto le domande dicendo prima di tutto meravigliosa Adriana veramente bellissimo allora la prima domanda è dal punto di vista teorico hai iniziato dicendo propongo due modelli di soggetto ma poi quando parli di soggetto relazionale parli sempre di soggettività qual è la differenza mi sembra importante due chi ti chiama bonista quando parli di filosofia del bene ha dimenticato Socrate cioè qualcosa di Socrate con il tuo approccio tre il tuo rivendicare spazio alla cura non mi pare ingenuo e poco realistico nel senso che non vedi la complessità dell'umano mi pare all'opposto all'opportunità filosofica di non essere ancella della psicanalisi offri un'immagine per immaginare quattro ed è l'ultima domanda metteresti Margalit nel filone dei filosofi nel filone ebraico di cui parli mi riferisco soprattutto di ethics of memory mi fermo perché ne avrei mille altre di domande però grazie mille davvero grazie io direi continuiamo a raccogliere le domande a questo punto forse proseguo quella domanda di scusa eh proseguo quella domanda di Sara Ladu vorrei fare una domanda è possibile che la mancanza di educazione alla cura delle madri verso i figli maschi soprattutto sia il problema dell'ambiguità che si è manifestata in modo pervasivo durante questa crisi pandemica ma che si manifesta in ogni situazione di violenza infine scusa Enzo se continuo c'è una richiesta di poter intervenire sì del collega Pierluigi Consorti grazie Pierluigi che chiedo a Lorenzo di ammettere ecco eccomi qua grazie buonasera e voglio fare un breve intervento perché vorrei ringraziarvi soprattutto e può sembrare forse eccessivo chiedere la parola per ringraziarvi ma io penso che l'occasione che voi avete creato stasera sia un'occasione molto importante quindi vorrei colmare per quanto possibile un debito di gratitudine che ho con le persone che sono intervenute che non conosco personalmente a parte Tommaso Greco e Enza Pellecchia con cui abbiamo una vicinanza accademica per Pisa però che mi hanno consentito attraverso la lettura dei loro lavori di capire quanto bisogna ragionare io parlo come giurista e ringraziare il pensiero del femminismo giuridico perché ci aiuta ad entrare in una relazione diversa con la relazionalità del diritto io che non sono più neanche tanto giovane ho grazie anche agli studi alle letture che ho fatto di Cavarero provato a riimmaginare anche quali possono essere i fondamenti stessi di un diritto che come dice Tommaso Greco ma lui lo dice meglio di me perché è un filosofo io invece no non sono in grado di dirlo così bene di un diritto che ha senso se riesce ad essere uno strumento di gestione dei conflitti e non uno strumento di potere ecco io credo che questa dimensione debba essere riconquistata cioè la dimensione della praticità del diritto come regole che aiutano a gestire i conflitti non a partire dal potere della forza che il diritto ha in misura prescrittiva con il potere che è proprio di chi produce le norme ma con un potere che è proprio di ciascuna persona di ogni uomo di ogni donna che può dare ecco il passo della relazione con gli altri io questo penso che sia una sfida propria anche di noi giuristi che vogliamo in qualche modo collegarci agli studi per la pace e in questo senso credo che la dimensione della non violenza ci possa indicare un percorso prima abbiamo ascoltato una riflessione sulla pace diciamo strumentale ecco io penso che noi dobbiamo anche apprezzare la pace nella sua dimensione di fragilità cioè la pace dice Tommaso Greco è un principio possiamo dire che la pace è uno scopo è un obiettivo possiamo dire che la pace sta avanti dietro sopra io non lo so dire bene quello che riesco a dire anche sollecitato da quello che avete detto voi oggi anche rispetto alle considerazioni che ha fatto Germini sulla pandemia noi siamo in un equilibrio fragile ecco l'equilibrio fragile è l'equilibrio che però ci consente di porci con una postura di cura anche di questa fragilità e io penso che grazie al vostro pensiero possiamo anche immaginare come curarci reciprocamente e spero che questa nostra relazione di studiosi studenti insomma uomini e donne che vogliono confrontarsi per costruire una cura comune e collettiva della pace sarà un bel risultato che ci aspetta nei prossimi anni e quindi di questo vi volevo veramente ringraziare grazie Pierluigi non so che devo fare mi togliete voi adesso non ti preoccupare puoi solo disattivare il microfono poi rimani con noi a questo punto darei la parola se non ci sono altri interventi io darei la parola di nuovo ad Adriana ad Olivia e a Lorenzo lasciamo Adriana per ultimo Adriana sì Adriana per ultimo io già benissimo va bene se posso non risponderò a tutte queste sulle citazioni il tempo è poco sono state dette tante questioni importanti alcune domande sono giustamente rivolte soprattutto ad Adriana cercherò di unire alcune delle questioni cioè la questione che poneva Olivia della difficoltà di elaborare un nuovo lessico a volte ci mancano le parole della violenza l'immaginario della violenza è così pervasivo a me ha colpito che oggi Grillo per sostenere la candidatura di raggi a Roma ha detto la nostra guerriera per dire no questo linguaggio è così pervasivo che neanche ce ne rendiamo conto rispetto al covid ha combattuto contro la malattia Susanne Sontag ci ha insegnato che far pensare che la persona è responsabile di combattere anziché dover accogliere la cura i farmaci della medicina non aiuta il processo di guarigione quindi questo è un linguaggio così pervasivo e così ricco di termini e in effetti invece il linguaggio della relazione della cura sembra più povero e poi vorrei mettere insieme questa questione con le questioni che sono state poste sulla necessità di questo dialogo che io ritengo importantissimo tra filosofia e diritto tra filosofe e giuriste e la necessità di ripensare il diritto e anche con la questione da dove trarre la forza per l'inclinazione ecco io penso che questo sforzo di rimmaginare il diritto di trovare nuovi termini ma anche questo che volevo dire di risignificare i termini che già abbiamo perché i termini a un termine possono corrispondere concetti diversi e i termini possono anche essere risignificati e un lavoro importante della filosofia penso che sia quello anche di distinguere i significati che diamo a uno stesso termine ecco io penso che appunto che questa sia una necessità comune risignificare il diritto dialogare tra filosofi e giuristi e sia una necessità rispetto a tutti i problemi della contemporaneità al problema della pace sicuramente che siamo qui a discutere ma anche il problema della pandemia cioè bisogna iniziare a pensare a un diritto ambientale noi che abbiamo parlato visto il tema soprattutto dei diritti degli umani ma i diritti degli animali abbiamo visto sconfinare negli ambienti animali non permettere agli animali di avere un loro abito cosa comporta comporta che il loro virus poi ci ribecchiamo quindi bisogna veramente rifensare il diritto a partire da una relazionalità e qui c'è molta filosofia contemporanea e femminista contemporanea che ci lavora una relazionalità che tra l'altro va anche oltre l'umano questa è una sfida che dobbiamo fare e appunto io non sarò qui a risolvere questa sfida adesso il tempo non c'è però volevo dire solo una cosa ad esempio un punto di incrocio importante secondo me tra le nostre riflessioni di giurista e di filosofo potrebbe essere ripartire dal concetto di libertà da dove prendere è stato chiesto la forza per inchinarsi sull'altro anche Adriana parlava di una scelta la vulnerabilità dell'altro mi pone sempre di fronte a una scelta in realtà Adriana lo sa benissimo Levi Nassa ad esempio dice che se io davvero colgo la presenza dell'altro se io se mi accare il volto dell'altro io non ho più scelta io non posso uccidere l'altro se mi rendo conto veramente che sto spegnendo una vita in quel momento non può se me ne rendo conto non posso questa è la forza di Levi di questo pensatore di questa tradizione ebraica di cui parla Adriana cioè il volto dell'altro è al tempo stesso apre alla possibilità di ucciderlo ma al tempo stesso se io lo colgo emerge il comandamento divino non ucciderai e questo ci comporta un ripensamento secondo me della nozione di libertà in Hobbes nell'individualismo la libertà e il diritto è una libertà però diritto vuol dire libertà legge è limitazione alla libertà però appunto però appunto la libertà è si dà come una in una concezione negativa cioè io sono libero se non ho costrizioni della legge i diritti individuali dovrebbero fare questo porre dei paletti a cui la legge non può dove la legge non può arrivare e la classica libertà dei liberali c'è poi tutta la tradizione democratica della libertà da Rousseau in poi secondo me invece la libertà è darsi le proprie leggi non è evitare che la legge interferisca nel mio privato ma partecipare alla lavorazione della legge razionalmente avendo in nome interesse comune però anche qui c'è l'idea di un soggetto in qualche modo autonomo che ragiona assieme alle altre e agli altri per darsi le leggi ecco secondo me l'etica della responsabilità o delle relazioni ci pone davanti alla sfida di ripensare la libertà assieme alla responsabilità una libertà che è diritto e dovere e dovere cioè io non io mi sento libero vuoi dire si parlava della della insomma di questo stereotipi che condannano le donne a essere oblative io non sono una donna però parlo invece di un'esperienza mia e non è che sono obbligato a prendermi cura dei miei genitori anziani di astenermi di avvicinarmi a loro per paura del contagio eh io però sono libero di farlo ma lo faccio in nome della relazione della relazione che mi lega a loro la mia libertà coincide con un obbligo di cura e io penso che la relazione se pensiamo non il soggetto che ha delle libertà dei diritti che non vuole che siano lesi dalla legge ma se pensiamo il soggetto in relazione sempre in relazione eh con gli altri vuol dire che la libertà del soggetto ha come limite costitutivo la presenza dell'altro è una libertà che è anche responsabilità ecco forse mi chiedo se un punto comune per ripensare il diritto eh e per dialogare tra giurista e filosofa non sia anche questo riflettere sul concetto stesso di diritto a partire dal concetto di libertà sicuramente le questioni sarebbero molto di più molto più complesse sono state sollevate moltissime ecco però mi mh il problema almeno ecco di eh dare questo altro contributo lascio la parola a Olivia Adriana ma io in realtà avevo già detto prima pensavo che questa fosse ehm io sono in per per continuare sulla scia di quello che ha detto Lorenzo del rapporto tra la filosofia politica e il diritto diverse abbiamo diversi rapporti di ricerca con le filosofi e i filosofi del diritto con cui abbiamo avuto anche un print sul tema della vulnerabilità per cui ne abbiamo discusso molto spesso e ne abbiamo ehm e a volte abbiamo dibattuto perché mi rendo conto che spesso quest'idea di un soggetto dipendente di un soggetto relazionale ma anche dipendente perché questo elemento è sicuramente presente nella nostra riflessione in quella di Adriana e anche mia ehm disturba un po' mh la l'approccio anche delle delle più femministe delle filosofi del diritto devo dire questo tema della dipendenza dell'assenza di autonomia che è sicuramente un elemento problematico indubbiamente no? Cioè eh per cui mh su questo ehm ci siamo abbiamo discusso molto ma ehm in realtà tornando sempre a questa ambivalenza di cui si parlava anche prima e cui Lorenzo ha messo bene in evidenza secondo me è innegabile cioè se vogliamo aprire lo stereotipo materno e risignificarlo è innegabile riconoscere nella nella postura materna una ambivalenza eh che il femminismo ha portato il femminismo inteso come come attivismo no? Anche come ehm come movimento ha portato all'evidenza cioè la maternità non è un destino la maternità è una scelta eh quando la maternità è una scelta di un soggetto libero e non è più un destino rivela le sue ambiguità perché c'è una dimensione di eh appunto di indubitabile eh oblatività nella se non altro nella prima fase dell'infanzia che che può fare problema se vogliamo spostare il discorso diciamo così da un immaginario teorico a una a una riflessione anche incarnata nelle esperienze eh però quello che per esempio io ho scritto in un saggio un po' di tempo fa su questa questione e riprendo i temi di Lorenzo sulla libertà cioè quello che io trovo per esempio interessante della dell'esperienza materna è il fatto che eh mostra nella sua concretezza e materialità questa compresenza di libertà e dipendenza eh cioè come direi una realtà di libertà e dipendenza insieme o se vogliamo metterle nel termine di Lorenzo di libertà e responsabilità eh non c'è eh insomma è innegabile questo no però eh lungi dal leggere questo come un elemento diminutivo eh di eh della soggettività materna diciamo così io lo io lo vedo come un elemento di eh ricchezza della soggettività materna che insegna come dire mostra nella sua forma più evidente che i soggetti sono tutti liberi e dipendenti liberi e responsabili insieme cioè siamo tutti madri sostanzialmente eh siamo tutti anche se non lo siamo lo siamo anche se non lo siamo state lo siamo questo era un po' per per dire eh per dare un esempio no di uno sforzo eh di risignificazione dello stereotipo eh che perché la finzione cioè il soggetto autonomo e indipendente è una finzione forse una finzione produttiva per il diritto eh una funzione che lo è stata eh ma eh è una finzione che l'esempio mh la soggettività femminile materna mette in evidenza come eh come sia evidentemente una finzione e e concludo con una citazione scusatemi perché in questo periodo sto insegnando un testo che a me piace molto di questa filosofa anche lei di origine ebraica che ha scritto pochissimo eh una filosofa molto sui generis che ha un pensiero davvero poetante che si chiama Rachel Bespaloff che scrive un saggio sull'Iliade nel 43 ed è interessante che solo di recente sia stata scoperta o rivalutata e e in questo saggio dice una cosa che secondo me potrebbe andare bene per la nostra conversazione parlando delle figure che popolano l'Iliade contrappone Achille a Ettore dicendo Achille è lo spirito dionisiaco cioè la brama di distruggere per odio della corruttibilità del tutto invece Ettore come spirito appollineo è la volontà di preservare l'ordine umano per amore dell'essere nella sua stessa vulnerabilità ecco quindi diciamo che seguendo questa distinzione Ettore sarebbe la figura a cui ispirarsi di preservare l'essere proprio a partire dalla sua stessa costitutiva vulnerabilità e qui concludo Adri Adriana la parola a te per concludere concludo sì beh intanto ringrazio tutti e tutte perché mi avete dato un sacco da pensare e secondo me è quello di Tommaso Greco che saluto mi ricordo di Lugano e Pierluigi consorti sono contributi come già diceva Lorenzo Bernini e Olivia Guaraldo queste nostre conversazioni con i filosofi e le filosofi del diritto sono essenziali e penso che sia una categoria molto importante quella che citava Tommaso Greco della fiducia e anche quello che diceva della pace con l'aggiunta poi la conferma ma anche l'aggiunta di Pierluigi consorti e in questo in questo senso dico che il nostro lavoro se vogliamo pensare come io mi sforzo di fare una pace come principio il nostro lavoro è molto difficile perché le narrazioni che abbiamo a disposizione sono narrazioni che negano questo fratricidio Romolo e Remo Caino e Abele non nominiamo il mito greco che è pieno di parricidi e fratricidi abbiamo una cultura che ha selezionato e si è nutrita di stilemi che sono stilemi violenti e fratricidi quindi è veramente difficile pensare una pace come originaria come direbbe Levinas ma penso che valga la pena impostare il discorso in questo modo penso che valga la pena anche cercare narrazioni diverse perché queste narrazioni che sono narrazioni di origine mitica anche parlando della Bibbia io intendo quello sia trasmesse e selezionate si sono alla fine selezionate le narrazioni che pongono un principio belligerante quindi bisogna riscavare nel mito riscavare nelle tradizioni ed è un'operazione molto difficile però spero che queste conversazioni possano continuare perché io ho molto da imparare dai giuristi e delle giuriste che è una scienza un ambito rispetto al quale io un po' tremo perché sono molto ignorante e per quanto diceva Alessandra Montalbano che parla dall'Alabema che si è vaccinata prima di tutte noi per quanto diceva Alessandra Montalbano lei ha posto molto domande io adesso ne prendo due perché se no sarebbe troppo lungo uno Socrate certo che Socrate mi piace ma Socrate esercitava l'arte maieutica cioè Socrate fa parte sebbene con la sua eccezionalità fa parte di questa tradizione dove il materno il parto compare compare come scena molto importante naturalmente Socrate faceva partorire i discorsi invece che i bambini poi lì c'è un discorso molto lungo che chi ha letto nonostante Platone sa come la pensa però che l'origine diciamo della filosofia occidentale sia con la figura di Socrate che continua a usare non delle metafore belliche ma delle metafore del pardo della maternità lo trovo molto interessante la questione perché uso la parola soggettività invece che soggetto anche qui il discorso sarebbe lungo ma lo dico in sintesi mentre il soggetto così come è usato nella filosofia moderna ha proprio a che fare con l'individuo diciamo verticale autoconsistente soggettività suggerisce o perlomeno a me suggerisce la presenza di una pluralità cioè quando io dico soggettività non intendo il soggetto che si replica l'uguaglianza come ricplicazione del medesimo che è una delle grammatiche essenziali della filosofia politica moderna intendo arentianamente una pluralità di appunto soggettività uniche uniche quindi arentianamente cerco sempre di scegliere vocaboli che insistono sulla condizione umana della pluralità che è un'operazione poi concludo riprendendo il discorso della pandemia anche come lo suggeriva Olivia che diceva ma mio marito lavora nella sanità e dice che in verità questa etica altruistica non c'è perché la gente si vuole vaccinare per salvarsi la vita io questo credo che sia più che vero però abbiamo anche esempi reali del contrario io non credo che e Lorenzo l'ha detto io conosco Lorenzo so che è sincero io penso che Lorenzo si sia vaccinato anche per salvarsi la pelle ma si è vaccinato anche perché lui quando va a trovare i suoi genitori si sente una bomba cioè è anche un sentimento altruistico di non essere vulneratore che gli fa fare questa scelta la fa volentieri e qui a conclusione di tutto questo per non dare un'idea sbagliata del mio uso dello stereotipo materno e della mia intransigenza che è anche un po' un'intransigenza retorica io non è che penso a un'etica altruistica come etica del sacrificio di sé non è questo che penso io penso che il sacrificio di sé sia sempre all'interno dello scenario dell'individualismo cioè l'individuo è così importante che poi dona il sacrificio di sé sarebbe come dire una forma di negazione dell'individualismo che diventa una riaffermazione dell'individualismo non è che ho in mente una una filosofia o un'etica che si dice nel linguaggio un po' ridicolo scansonatorio penitenziale non ho questo in mente cioè io ho in mente e penso che l'Olivia sono sicuro che è d'accordo ma anche Lorenzo dico loro due perché li conosco molto bene sono d'accordo penso a un'etica e a una politica che è anche piena di entusiasmo che questo tipo di responsabilità o questo stare assieme di libertà responsabilità di cui parlava Lorenzo abbia un elemento emotivo di entusiasmo di creatività di generatività non penso affatto che il soggetto verticale debba pentirsi e quindi inclinarsi e sacrificarsi io penso che mettere come principio come primum la pace e mettere come dire come come modo di essere l'etica altruistica o l'etica della cura sia un modo per realizzare posso dire la felicità Olivia direbbe la felicità forse qui felicità è troppo forte perché la felicità se lo usiamo arentianamente è felicità pubblica ma insomma per realizzare un modo di essere che dona una pienezza che non chiede sacrifici ma che dona una pienezza questo ci tenevo a dirlo perché sembra sempre che il paradigma altruistico l'etica altruistica sia qualche cosa di rinuncio di sacrificio non è rinuncia è realizzazione e questo si sposa bene con la storia del femminismo la storia del femminismo non è storia di rinuncia è una storia di realizzazione e di realizzazione non soltanto del settore imitativo cioè voglio essere come un uomo non voglio fare la madre casalinga voglio fare la manager col tagliore non è così se noi leggiamo da Mary Wastro che fin poi non è così è come dire realizzare qualche cosa di essenziale che è essenziale non perché sia un essenzio ma perché può essere condiviso dall'esperienza e io penso che l'esperienza dell'altruismo nel nostro piccolo è un'esperienza che conosciamo e secondo me comprendiamo condividiamo la convinzione Tommaso Greco direbbe la fiducia giustamente la fiducia condividiamo la fiducia che questo porsi come soggetto altruistico scoprire in sé la capacità di soggettività etiche altruistiche sia un modo per riusufruire di una libertà e di una responsabilità che non sono più prese nelle maglie sistematiche di tutto quel racconto che possiamo dire con termini bellici conflitto guerra violenza ostilità aggressività e così via quindi un altro linguaggio la ricerca di un altro linguaggio e soprattutto la ricerca di questa interlocuzione di cui oggi credo che con buona volontà di cui siamo stati un esempio grazie mille grazie certamente ci sarebbe un grande corale applauso che idealmente virtualmente facciamo siamo insieme da praticamente due ore e mezzo so che avremmo voglia di stare ancora insieme ci sono anche altre domande ma esigenze di tempo comunque suggeriscono di terminare qui questo questo incontro ovviamente i ringraziamenti a tutte e a tutti ho iniziato ho introdotto questo incontro parlando del desiderio che ci portava qui e che ci accomunava il desiderio di cominciare a riflettere sulla possibilità di trovare parole nuove di pensare pensieri nuovi e di farlo in maniera radicale che non è solo in maniera subversiva perché la via che ci ha indicato Adriana è la via della radice la via della nascita poi in questo senso del pensiero che va alla radice delle cose anche alla radice dell'esperienza della nascita ha detto siamo tutti figli di madri e figlie di madri e certamente intende non intendeva nello stereotipo della maternità ma poi ha rivendicato e questo mi è piaciuto tantissimo anche la libertà di usare di usare gli stereotipi e dicevo siamo arrivati qui con un desiderio e penso che ce ne andiamo ancora più potenziate in questo desiderio e un desiderio che si è via via arricchito di altri soggetti desideranti e un desiderio che mi è parso emergere con grande chiarezza è quello del dialogo tra discipline quello dell'interdisciplinarità che non è solo tra i filosofi filosofi della politica filosofi giuristi giuristi costituzionalisti filosofi del diritto eccetera ma va allargato ancora di più il tema delle scienze per la pace che è un tema che ci è così caro e che è alla base dell'identità della rete delle università per la pace è proprio la convinzione che è nel dialogo tra le discipline nell'interrogarsi su cosa possono fare le scienze intese come discipline accademiche per la costruzione della pace sta proprio la grande sfida di questa rete una sfida che l'accademia deve cogliere al suo massimo livello e quindi ce ne andiamo potenziate in questo e potenziati in questo in questo desiderio e vorrei aggiungere anche autorizzate autorizzate da una madre simbolica come Adriana Cavarero a osare a pensare senza limiti e dunque a sfruttare il potere dell'immaginazione e mi piace essere autorizzata ad osare piuttosto che aspettare che un ordine simbolico maschile mi autorizzi dicendomi che il mio pensiero ha valore quindi è in direzione di una madre simbolica come Adriana Cavarero che guardo per osare pensieri nuovi e parole nuove ed è una sfida molto bella e io davvero confido nel fatto che questo sia solo l'inizio di un di un percorso che nei tempi nei modi nei luoghi che sapremo inventare però porteremo avanti nel futuro io vi ringrazio tantissimo sono veramente arricchita da queste due ore e mezzo do un'ultima volta ringrazio ovviamente Mari Lisa che ha coordinato la prima parte grazie a voi davvero perché mi sono diciamo veramente ho un sacco di spunti e di diciamo di riflessione e andremo avanti andremo avanti davvero come hai detto sono molto contenta bene e Alessandra chiude con alcune comunicazioni tipo tecnico alcune di queste comunicazioni penso che siano molto attese perché prego Alessandra grazie ricordo a tutti che l'evento di oggi domani è sui canali Univro e Youtube e ricordo anche per quanti avessero quanti avessero necessità di un attestato di partecipazione di iscrivermi alessandra.cordiano univro.it e anche da parte mia grazie a voi grazie a Olivia Lorenzo a Inza a Marilisa ovviamente grazie alla professoressa Adriana Cavarero e spero di vederla presto l'ultimo una delle ultime volte che noi ci siamo viste eravamo ad una festa eravamo ad una festa c'era Lorenzo c'era beh Olivia era a casa di Olivia io posso confermare quando c'è Adriana Cavarero si canta e si balla e quindi la speranza è di ritornare al più presto a cantare a ballare insieme finalmente questo ce l'abbiamo anche registrato a futura memoria perché nell'introduzione di questo libro si racconta del duetto che Adriana fa sempre del Don Giovanni di Mozart esatto e quindi vi lascio con questa con questa mia così con questo mio desiderio profondo di non vedo l'ora di tornare a ballare insieme grazie grazie a tutti a presto a presto a presto a presto